Buon pomeriggio, ben ritrovati, Club Napoli on News. Oggi sono polemico, ve lo dico subito, sarò molto polemico, poi con i nostri ospiti, con voi proveremo a capire questa situazione. Allora, in Napoli sono quasi finite le visite mediche di Traoré, anzi dovrebbero essere finite le visite mediche di Traoré a Villasort, il Napoli ha chiesto che ci sia un infettivologo anche, poi non lo so, sperando che sicuramente la villa di Villasort di, come si chiama, del dottor, aiutatemi il nome che adesso mi sfugge, Mariani, ecco, Mariani è una clinica di primissimo livello dove tutte le squadre quasi di Serie A si fanno le visite mediche dei nuovi calciatori, ma pare che il Napoli abbia chiesto anche l'intervento di un infettivologo per capire la situazione della malaria. Poi i beni informati danno fatto l'acquisto di gong, io spero che questa la pronuncia è difficile un po' di questo ragazzone che gioca nel Verona, secondo Sky, secondo la Rai, secondo tutto mercato web, tutti danno fatta anche in gong, con cifre poi diverse, bisognerà capire il prestito, non prestito, Verona voleva tenerlo in prestito, dice ve lo do, però me lo tengo fino a fine campionato e Napoli voleva dare Zerbin al Verona, ma pare che Zerbin si sia rifiutato, ha detto anche molto arrabbiato, no, voglio andare a Frossinone e non a Verona, io poi non so se Zerbin a Frossinone gioca, però vabbè, comunque sembrerebbe che abbia detto no, voglio andare a Frossinone, forse perché è più vicino Napoli, boh, non lo so comunque. aveva più speranze di giocare a Verona che a Frossinone, infatti questo dico, aveva molte più speranze di giocare a Verona che a Frossinone, però pare che Zerbin abbia detto no, voglio andare a Frossinone, ma la domanda che io mi pongo, e ho messo vi piacciono questi possibili acquisti, ma più che altro per farvi dividere un po', no, per farvi parlare, mi domando, e sono cattivello, ma questi due giocatori veramente servono in questo momento al Napoli? Poi mi rispondete, io ho la mia idea, no, il Napoli è appolitano e all'Indstrom, l'Indstrom non fa l'esterno, ok, abbiamo comprato l'Indstrom allora inutilmente? Allora mi dovete rispondere sì, Traoré mi dite che può giocare anche nel 3 di centrocampo, il nostro Paolo mi dice così, dopo ce lo spiegherà bene, perché per me è un esterno, per me è un giocatore d'attacco, un giocatore che dovrebbe sostituire, ma poi chi? Sostituire Elmas nell'idea? Però Elmas era molto più centrocampista di Traoré, io non me lo ricordo Traoré a fare l'incontrista, però Traoré a fare l'incontrista Paolo non me lo ricordo, poi dopo mi dirai la tua, finisco il mio inizio di puntata e allora mi faccio questa domanda, ma scusate ma noi non servivano due centrali e due centrocampisti di centrocampo? Cioè per me il centrocampista può essere anche Barac, poi vi piace, non vi piace, però prendiamo Barac, ragazzi il Napoli con Demme e Cajuste che sono a tre quarti, si dice dalle parti nostre e con Zilischi che ufficialmente potrebbe essere anche messo fuori rosa e il Napoli non ha un centrocampista di ruolo per far giocare la partita con la Fiorentina giovedì, c'è solo Lobotka, poi non si sa chi gioca, potrebbe giocare ancora Gaetano, sicuramente, ma non mi sembra il giocatore adatto a contrastare la Fiorentina, detto questo manca anche il difensore centrale, ragazzi Natano è infortunato, Juan Jesus e Rachmani stanno facendo gli straordinari, Ostigard è sparito dalla circolazione, allora ditemi che cosa facciamo, o ci inventiamo di Lorenzo centrale e mettiamo mazzocchi sulla fascia, però è inutile che poi il Napoli si porta Olivera, Meret e chi è che è infortunato che se l'è portato per far vedere che gli fanno fare il giro in Arabia, ok? Contenti per Meret, contenti per Olivera, perché pure non credo che Olivera giochi, contenti per loro, pare stamattina le ultimissime ci danno che Cajuste sta recuperando e meno male, aggiungo io, perché se no veramente con Demme anche lui infortunato e sembra che non ce la faccia, il Napoli con la Fiorentina gioca con me, con Paolo Serra e con Gregorio a centrocampo, perché a questo punto magari, cioè ce ne andiamo anche noi a Riad, domani prendiamo l'aereo e giochiamo. Ragazzi, allora io mi faccio questa domanda, ma perché si vanno a comprare questi due acquisti? Ricordando che il Napoli al 16, oggi 16, di gennaio ha solo acquistato Mazzocchi, poi fra poco potrebbero arrivare gli ok, anche se della 20 sei in Arabia, gli ok per, come si chiama qui, per Traoré e forse domani, dopodomani per Gong, ma erano veramente questi i giocatori, non vorrei, e qua devo essere cattivo, poi diranno che Molaro è contro la società, che siamo contro il Napoli, che noi facciamo sempre le polemiche e tutto quanto, io vi ricordo che il Napoli, oggi la Roma è esonerato Murigno prendendo dei rossi, quindi significa che si sono svegliati anche loro, e il Napoli vi ricordo sempre che è ottavo in classifica, ottavo, ok, poi ci sono solo tre punti dalla Fiorentina, ma è ottavo, tra noi e la Fiorentina ci sono l'Atalanta, la Lazio e il Bologna, tre squadre, quindi non è un fatto solo di punti, ma è anche un fatto di squadre da superare. E allora non vorrei però che Traoré è stato preso perché lo paghiamo se lo riprendiamo, perché il prestito è gratuito, la formula dovrebbe essere questa, prestito gratuito, se non ce lo pigliamo paghiamo il prestito, se ce lo pigliamo paghiamo 25 milioni, che per me non ne vale in questo momento Traoré. Poi che facciamo? Andiamo dal Verona e ci prendiamo questo Hong Kong, perché il Verona sta svendendo tutto, perché deve prendere soldi, è in crisi totale, ha venduto Terracciano, ha venduto il difensore all'Atalanta, praticamente pare che con una quindicina di milioni ci prendiamo Hong Kong, ok? Che è un giocatore interessante, lo voleva la Fiorentina, lo voleva un'altra squadra, lo voleva il Bormutton proprio per sostituire Traoré, quindi sostituire Traoré, senti questa cosa Paolo, sostituire Traoré con Hong Kong, aspetta, sostituire di cose che Traoré non ha mai giocato? No, sostituire nel senso come posizione, come idea, come idea di gioco. Allora, io ribadisco, non vorrei che De Laurentiis, Mazzocchi ha pagato 3 milioni, Traoré non lo paga, Hong Kong è, come dire, il saldo di fine stagione, no, neanche di fine stagione, è un saldo che tu vai a prendere a prezzo buono, è come quando tu vai a settembre, finita la stagione estiva, ti vai a comprare una bella Polo Ralph Lauren a metà prezzo, così hai fatto, cioè ti stai andando a prendere una bella maglietta che però metterai nell'estate del 2024. Allora io oggi sono cattivo, sono cattivo perché questi due giocatori per me sono inutili, io volevo un centrocampista e un difensore per andare in Arabia con questo difensore e con questo centrocampista e invece noi cosa prendiamo Traoré che viene da una stagione dove ha giocato una partita, ha avuto un infortunio grave e poi ha avuto la malaria, speriamo che il ragazzo sta bene, speriamo che ritorni quello che ci ha fatto vedere grandi cose con il sassuolo e benvenga. Kong, ripeto, giocatore interessantissimo, ma due sono le cose, o il Napoli ha bocciato definitivamente Lindstrom e non sappiamo cosa succederà perché ragazzi la regola è molto chiara, anche questa, Lindstrom non può giocare in un'altra squadra, neanche in prestito, l'unica squadra che potrebbe andare a rigiocare è l'Eintracht di Francoforte, ce lo ridiamo a loro ma non credo che l'Eintracht si riprende il signor Lindstrom e non mi fate dire altro, quindi io mi domando o mette il pepe a Politano, firmi o non firmi perché noi ci siamo presi in gonga e allora potrebbe essere anche un'idea legittima perché ci sta che tu metti il pepe a quel posto lì al signor Politano lo vuoi o non lo vuoi il contratto deciditi perché se no l'anno prossimo noi teniamo un gonga e ci sta, però ripeto in questo momento prendere un giocatore in quella posizione per me è una cosa inutile, io avrei preferito dire ragazzi non investiamo grandi soldi perché se ne era parlato di 80 milioni da parte di De Laurentiis, non investiamo grandi soldi e andiamo a prendere due o tre giocatori a prestito o a pagherò ma nei ruoli che ci servono, ci serve il centrocampista ragazzi come il pane, ragazzi ci serve il centrocampista come il pane e noi non ce l'abbiamo, non abbiamo un difensore centrale che non sia Ostigard che Mazzarri vi ha spiegato in conferenza l'altro giorno che non gli piace perché ve l'ha spiegato in conferenza, allora io mi domando e mi ribadisco ma perché si fanno questi tipi di acquisti? E' questa una domanda che spero che Gregorio, Paolo ma anche i tifosi da casa ci daranno, fra poco ci colleghiamo anche con la rabbia con il collega di tutto il mercato web che è lì a Riad, abbiamo anche delle immagini dopo la regia ce le farà vedere, sia delle visite mediche, anzi Davide ti saluto e se ci fai vedere le visite mediche, le prime immagini di Traoré, no queste no, queste dopo, queste dopo, eccolo qua, guardate Traoré ragazzi, sembra spaisato, io spero che questo ragazzo sia bene, è bene lo so, no spero che sia bene, è emozionato, spero che questo ragazzo sia bene, sei troppo critico oggi, no oggi sono nervoso perché questo per me il Napoli sta sbagliando la campagna acquisti con una squadra, ragazzi noi andiamo a giocare con la Fiorentina con Lobotka, forse Gaetano e con Zelischi a mezzo servizio, perché questa potrebbe… Perché a mezzo servizio Zelischi se si è allenato in gruppo tutti i giorni, adesso è una rabbia, se si allena in gruppo un calciatore che peraltro ha giocato tantissime partite, quindi non è un calciatore che magari fuori forma, è un calciatore pronto per giocare con una partita importante, ha saltato una partita Zelischi, però se le informazioni sono quelle che è un Zelischi che si è allenato con il gruppo… Paolo, però dipende da una cosa, se con la testa c'è… Ma questo è ovvio, ma se non c'è con la testa allora Zelischi deve sedersi in tribuna neanche in pancina, però non credo che questo ora sia il momento, visto che è un momento delicato dove si affronta una semifinale di Supercoppa ed è il momento clu della stagione, ora in questo preciso momento non è il caso di… perché hai pochi centrocampisti, non è il caso di far magari mi mettere in tribuna o far accomodare in pancina Zelischi perché hai poche scelte, oltretutto Gaetano l'abbiamo visto, secondo me non è ancora pronto, è bene che questo ragazzo vada a farsi un'esperienza da qualche altra parte dove avrà più continuità sicuramente, più fiducia. Io non sono d'accordo con te, su Traore innanzitutto lui parte centrocampista, perché con De Zerbi ha fatto il terzo di centrocampo, tu dici non è un incontrista, sicuramente un centrocampista che ha tanta qualità ha molta più gamba di un Zelischi della fase difensiva, perché un centrocampo ha tre compositi, ha un vertice basso, un regista, un giocatore di rottura che in questo caso potrebbe essere Cajust o è Cajust e poi un giocatore, un centrocampista rifinitore che ha più qualità rispetto ai due, dove ti può fare anche la giocata in rifinitura, la giocata vincente. Abbiamo visto che Traorecce ha queste caratteristiche, l'unico dubbio, a me piaceva tantissimo questo giocatore ai tempi del Sassuolo, l'unico dubbio chiaramente è sulla condizione fisica e se un calciatore è pronto per poter giocare gare importanti. L'unico dubbio è questo, ripeto. Poi lui può adattarsi tatticamente, può fare l'esterno come lo faceva Elmas, secondo me è anche meglio, può fare il sottopunta e può giocare un centrocampo a tre. Secondo me è stato scelto proprio per la sua duttilità, perché dopo andremo a vedere Mazzarri, anche contro la Salernitana, ha dimostrato una certa duttilità, ha cambiato modulo 3-4 volte durante la partita, dopo andremo a vedere e quindi questo potrebbe essere un giocatore che, ripeto, se sta bene fisicamente non ci sono dubbi. Per quanto riguarda Angongia a me è un giocatore che piace, è increscendo perché rispetto all'anno scorso già in 19 partite ha fatto 6 gol o 2 assist, quindi rispetto all'anno scorso che si doveva ambientare prima stagione quest'anno sta andando meglio. Ed è un mancino, secondo me si cerca il sostituto di Politano ma si cerca un giocatore mancino per farlo giocare a piede invertito e lui fa bene la giocata insomma come fa spesso la favoletà. Lui gioca sulla testa, sei d'accordo con lui? Certo, il mancino rientra sul sinistro. Per quanto riguarda Lindstrom io penso che questo giocatore lo si voglia far giocare al posto di Cavaraschelia per sostituire Cavaraschelia. E non c'è Traoré di là? Ma Traoré può fare anche il centrocampista, quindi dipende da tante dinamiche e poi deciderà l'allenatore. Però non penso che il Napoli ha speso 25 milioni per questo calciatore, acquisto più costoso di questo mercato estivo per poi mandarlo in prestito. Non è nella politica del Napoli. Sentiamo, sentiamo, ti vedo per, come dire, molto attento e silenzioso Gregorio, la cosa non mi convince. Vai, perché normalmente Gregorio è un fiume in piega. Subito un termine gambatese, ora è un po' più depressivo. Io sono stato cattivo ma resto cattivo, resto cattivo. Posso dire l'ultima cosa? Scusami. Vai, veloce. Allora, si sono presi giocatori che già conoscono il campionato italiano. Perché prendere un giocatore dall'estero che deve fare la cosiddetta fase di ambientamento... Ok, sono d'accordo. Quindi ci vogliono... Paolo, ma dove sta il centrocampista? Dove sta il difensore? Il difensore si sta lavorando su Perez. Eh, ma si sta lavorando, dobbiamo prendere l'altro ieri. Il centrocampista di rottura, dove sta? Fra poco torno pure a Anghissà. Forse vogliamo far tornare a Anghissà. Però comunque, secondo me... Forse speriamo che anche la Nigeria, pare che non si è allenato su Menni, forse esce. Hai Temme che non può giocare giovedì, ma penso se vai in finale lunedì la può giocare la partita. Non è un... Quindi devi recuperare Temme. Per questo dico, non c'è... Che avevi messo fuori rosa. Che avevi messo fuori rosa. Eh, ma vedi, però, dai, sentiamo solo Gregorio adesso. Vai. Innanzitutto buonasera a te e agli amici a casa. Buonasera, buonasera, buonasera. Visto che non l'abbiamo neanche... Non ti preoccupare, hai ragione, hai ragione. Esce pure la vena da condottore. Sava talmente arrabbiato che non ci ha fatto bisogno. Io ho fatto punto C, tanto è successo. Bene, bene, fa un piacere. Le squadre campane stanno andando alla grande, stanno viaggiando fortissimi. C'è la Vestabbia che ha esistitato Avellino, quindi vi invito a seguirci per quanto riguarda anche la Lega Pro, perché sette piazze campane di assoluto rilievo. Squadre come Vestabbia, Avellino, Benevento, Giuliano, quindi... Detto questo, io mi dissocio ampiamente da quelle che hai detto tu e in parte da quelle che ha detto Paolo. Va bene. Ho cercato di riflettere le vostre parole. Mi spiego il perché. Mi dissocio da te, non tanto per l'analisi, ma per il fatto che sei categorico nel bocciare. Io invece capisco la tua vena di oggi. Non boccio. Però io... Pure che i tifosi non hanno capito, io non sto bocciando i due. Dico che sono inutili. È come se... Allora, prego, se a te oggi ti serve una camicia, perché nel tuo armadio una si è rotta, una ti va larga, una ti va a stare... Tu dove vai? Vai a comprare una camicia o ti vai a comprare un boxer? Fammi capire. Allora, la tua osservazione è giustissima. Questo io poi incongio è un bellissimo giocatore. Solo che noi dobbiamo... Tra oreo... Noi dobbiamo un attimo... Però hai capito? Se a te ti serve la camicia oggi, scendi da casa, oddio, se sono tutte le camicie, parli con tua moglie, ma no, come devo fare? Tua moglie ci va a comprare la camicia. Ma hai ragione. Non è che ti va a dire vatti a comprare il boxer o i calzini. Per usare la tua metafora è che noi stiamo cadendo nell'equivo che qua occorre una camicia al giorno. Cioè noi vorremmo qualcosa di immediato. Noi pensiamo alla Supercoppa, pensando che qualsiasi acquisto fosse arrivato era abile per la Supercoppa. Ma non è così. Perché seppure fosse arrivato tre giorni fa, partendo con la squadra, è comunque un colpo estraneo che potrebbe dare una mano. Quindi risultare subito impattante, positivamente, oppure potrebbe in quel contesto apportare quasi nulla. E questo in genere è quello che accade quando metti un ragazzo subito in campo e non gli dà neanche il tempo di capire lo spogliato di come è fatto. Io perché mi dissocio da essere categorico? Per un semplice motivo. Io la settimana scorsa ho detto che il Napoli non può non prescindere dal mercato per ridare aria allo spogliatoio. Bravissimo. Il Napoli non ha grandissime esigenze tecniche. Perché se noi raccontiamo il mercato da luglio dell'anno scorso facciamo fatica a trovare gente che potesse aiutare tecnicamente sta squadra che era perfetta. Eh, bravo. Quindi io penso che la società abbia messo come primo tassello da completare, da fare, quello di recuperare i valori tecnici della squadra. che in parte hanno risposto presente già con la Serenitana. Perché la Serenitana abbiamo vinto con in campo Zerbini e Demme che è stato poi decisivo. Ah, Demme sì, sì. Demme che probabilmente tutti pensavamo ad oggi essere già da altre parti. Sì, sì. Quindi anche la dimostrazione che il Napoli, abbiamo sempre detto che non lo possiamo rinnegare, ha una rosa di assoluto rilievo. Ma non c'è tutto. E quindi abbiamo sempre anche detto che contro la Serenitana ti potrebbero bastare Demme, Caiuste, Lindstone per vincere. Perché se hai una rosa forte questi sono calciatori forti. Che non saranno di primissimo livello, non alla pari dei titolari. Però qualche risorsa in Napoli ce l'arriva. Ora il Napoli sta facendo degli acquisti. Li sta facendo esattamente secondo la propria filosofia. Perché il Napoli non va a prendere il trentenne per fargli fare i tre mesi. In quanto in quest'anno non deve vincere lo scudetto. E non può essere il valore di una supercoppa a giustificare un acquisto di un esperto. Il Napoli ha preso due ragazzi del 2000. Uno di piede destro e uno di piede sinistro. Tutte e due con una vocazione offensiva. Quindi continua il suo scouting a orientarsi sempre su calciatori dalle potenzialità offensive. Se il Napoli ha avuto una costanza da Mazzarri in poi e che ha sempre avuto un grandissimo reparto offensivo. Su tutte le caselle. Io ricordo che con Benitez c'erano in banchina gente, aiutami, Gabbiadini o altri che il campo non lo vedevano. Eppure in sera hanno giocato da qualche altra parte. Allora questi ragazzi che siano utili al momento, probabilmente come dici tu, no. Ma non lo sarebbe stato nessuno a gennaio. Perché come è prendere un calciatore che non gioca da un'altra parte? Oppure vai dall'Atalanta e gli porti 50 milioni come ti ho detto l'altro scorso. E prendi Cup Miners. Ammesso che te lo voglia dare oggi. A giugno non te lo dà. Cioè a gennaio non te lo dà. A gennaio non te lo dà. Magari oggi te lo dà diciamo che è a giugno 50, oggi 70. Eh vabbè, se ti capisco. O il Napoli significa solo. Che non è proprio la portata del Napoli. Allora il Napoli ha virato, non potendo arrivare a questi primissimi nomi in Italia, Cup Miners. L'ho citato la settimana scorsa e poi il giorno successivo ha fatto due gol. Due gol. E chi li ha segnato ancora? Ragazzi, giocatore eccezionale. Eccezionale. Ma il Napoli adesso sta andando su ragazzi, e chiudo, che una cosa hanno in comune, sono dei talenti, sanno giocare a calcio, hanno delle indubbie qualità, sia un conge che Traoré, diversi perché Traoré ecco viene praticamente da uno stato di inattività per tutto quello. Quindi il Napoli è come se l'avesse preso per farti capire a giugno e poi magari lo cura per metterli in campo, perché questo ragazzo magari lo ha tocchiato già due anni fa quando era Empoli. No, poi lo voleva. Ecco, ci hanno sempre detto che se ci sono delle opportunità di mercato da cogliere le colgono e queste trascendono a volte dall'immediatezza. Cioè tu sai che quel ragazzo è bravo, inizia a prenderlo, perché sai che inoltre il recuperato sarà bravo. Sì, però... Ma questi due mesi non mi aiuterà. Ecco perché in conge che segna 11 gol col Verona, 5, 6, quanti sono, 1400 minuti, quindi uno che è immediato. L'altro meno. Ma entrambi sono del 2000. Sì, però chi l'ha detto che tra due o tre partite questo ragazzo magari messo gradualmente possa già rispondere presente. Ma questa è la speranza. Poi la mezz'ora. È la speranza di tutti. Sì, ma in quattro partite può tornare tranquillamente... Se il Napoli sta facendo, sto leggendo anche dei messaggi, questi acquisti, è chiaro che anche in previsione del mercato futuro di giugno dove ci saranno delle eccessioni. Questo è fortitudine. E quindi, ti ripeto, il mercato è fatto di immediatezza quando ecco, perdi due difensori laterali e vai a prendere il Reveillere. Perché ti serve il numero e non ha mai giocato. Però è fatto poi di una crescita progettuale dove il Napoli ha sempre basato la propria fortuna. Ma chiudo... Ma no, fai un'altra cosa, perché potevo rispondere anche io a Gregorio. Vai! La vera unica esigenza che il Napoli ha nell'immediatezza, perché numericamente al centro campo stanno accadendo delle cose, ma tu tra due o tre settimane le avrai tutti, tra un mese le avrai tutti e ci sono cinque mesi di cambiamento, è il difensore centrale. Su questo siamo pienamente d'accordo. C'era una vista o no? Io credo, ma sul centro campo il Napoli, anche per gli acquisti che si sta facendo, secondo me sta pensando anche di cambiare modulo. Quindi di avere forse un centrale in meno e più esterni. Poi nelle caselle, signori cari, Cavaschetta il vice non ce l'ha, è Raspatori che non lo è, l'abbiamo detto tutti. Lindstrom doveva sostituire Politano, tutti hanno scoperto che un trequartista, l'Indstrom non è adatto, quindi anche l'aveva una casella scoperta e questi due le vanno a coprire. Cioè sono nell'immediato coloro che sostituiscono. Ma una squadra che cambia a gennaio, questi sono gli acquisti che fa, a meno che non toglie dei titolari. Se tu vuoi prendere un titolare, devi prendere un titolare e metterlo in pantina o venderlo. Quindi magari ne dovrò fare uno, difensore centrale, perché magari si è da One Jesus, è sempre stato seduto e non cambia nulla. Ma sugli altri ruoli, a meno che non dici già da adesso che Zelensky non gioca più, e non lo farà, perché una società professionistica e anche un professionista non devono cadere in queste cose. Sarebbe come buttare via otto o nove anni di amore reciproco per tre o quattro mesi in cui io non ti faccio giocare. Se le state si sono divise, hanno deciso di dividere, fino all'ultimo giorno devono restare in comunione e fare il meglio l'uno per l'altro. Ma sono d'accordo. E sono d'accordo che Zelensky questo lo fa. Quindi Zelensky fin quando sta bene io lo faccio giocare. Poi se uno gioca meglio di Zelensky, al di là del contratto Zelensky si siede. Quindi ripeto, il Napoli sta pensando di cambiare un po' modulo, di migliorare il battaglione offensivo, anche in previsione di quello che sarà a giugno. C'è nell'immediatezza l'unico acquisto reale che servirebbe per questo cambiato è il difensore centrale. Io faccio un nome su tutti. Torno alla stessa fonte. Investirei gran parte del mio denaro, se non è adesso a gennaio, ma sarà a giugno e Scalvini. Tutti parlano di buongiorno, io dico che Scalvini costa, però sarà il futuro centrale nazionale italiana e quindi sicuramente un giocatore di assoluto spessore. Ok, allora Paolo, ti faccio rientrare anche a te. Allora, forse, scusate, sono stato in ruento e non mi sono fatto capire. Io capisco che i due acquisti fatti di Traoré e Ngong sono due acquisti anche per il futuro, sono due acquisti che potrebbero essere anche nell'immediato favorevolmente inseriti, soprattutto questo Ngong che sembra un giocatore veramente interessante, perché veramente è un giocatore interessante, ma ribadisco, noi eravamo arrivati che alla cessione di Elmas e consapevoli che il signor Anghissà fino a fine febbraio, perché ragazzi qua si rischia di non averlo al top fino a fine febbraio, il Napoli doveva prendere un centrocampista almeno subito di rottura, anche non a sostituire Elmas, ma a sostituire l'assenza di Anghissà e la carenza di Elmas. Poi nell'ordine, se fa male Cajuste però sta recuperando, non si capisce la posizione di Zelischi, come giustamente hai detto tu, che è un professionista, io sono sicuro che il ragazzo possa giocare, ma caro Gregorio le voci di dentro ci dicono che Mazzarri non avendolo visto, non avendolo visto, non avendolo visto bene nella testa ha detto caro Peotro ti siedi in panchina e il ragazzo pare che abbia detto no, io non ci vado in panchina. Allora se siamo ai ferri corti caro Gregorio, io sono con te, rimango con te su tutto quello che tu hai detto, ma io ho bisogno di un centrocampista e ho bisogno di un difensore. Sul centrocampista è avvenuto un altro step che bisogna considerare, ragazzi, essendo questa una stagione diversa, ci sono più opportunità per tutti, io ho sempre detto che se Gaetano resta a Napoli deve giocare, quindi Gaetano va ad avanzare nella casella, può diventare vice di Zelischi e quindi avere più titolarità, non è che lo possiamo bocciare per i minuti fatti con la salernità, questo è un ragazzo che se resta a Napoli da qua a giugno deve giocare, in modo che anche a giugno tu saprai se è uno su cui puoi contare per la rosa del futuro o lo devi cedere definitivamente, come hai fatto in passato con Iciano, con altra gente bravissima che poi scese di categoria. Quindi sicuramente voglio dire che il Napoli deve puntare su Gaetano come sostituto di Elmas, perché Gaetano non giocava per via di Elmas e altri centrocampisti. Chiudo, se io ho detto cambiare anni nello spogliatoio, io voglio mettere il pepe come dici tu ai titolari, io ho detto al titolare metto il ragazzo affamato, se il Napoli ha vinto perché aveva dei ragazzi affamati, questi che sta riprendendo sono gente che in fase si devono rilanciare in gonge all'opportunità incredibile che passa dal Verona a un top club italiano, l'altro si deve rilanciare, quindi hanno entrambi fame e se vuoi mettere il pepe ai titolari, alle spalle gli metti dei ragazzi affamati che scalciano per giocare, non un altro trentenne che poi deve trovare degli equilibri, tu gli metti il ragazzo che ha fame anche da formare. Vedi che il titolare, Zielischi, Opoledano e chi per lui, sa che da questo momento in poi se sbaglia ha uno dietro che può giocare, fino ad oggi non c'era. Posso dire... Io innanzitutto, Francesco, scusami, innanzitutto Zielischi può dire quello che vuole, ma se l'allenatore e la società decidono che deve stare in panchina come giustamente è stato anche sabato contro la senitana perché nella partita precedente col Torino è stato uno dei peggiori in campo, addirittura irritante, tant'è vero che è stato sostituito dal primo e dal secondo tempo, è giusto che vada in panchina e il calciatore deve starsi zitto e stare in panchina. Ma sono d'accordo con te. Perché non sta dando da un po' di tempo, io non vedo il vero Zielischi da due mesi e mezzo, non è solo, forse è stato sbagliato proprio questo tipo di gestione, farlo giocare anche quando non giocava bene. Io lo sai, lo sto dicendo da tanto, che a questa squadra servivano degli acquisti che mettevano nel gruppo una sana competizione all'interno del gruppo, lo sto dicendo da tempo. E il ragazzo mette in più competizione dell'altro cotitolare, ammesso che ci sia. Sì, però il ragazzo deve essere anche bravo, non basta essere solo un ragazzo, deve essere anche bravo, deve essere competitivo, quindi con il titolare, perché altrimenti il titolare si addormenta come giustamente ha detto Mazzari perché sa che il ragazzo magari è bravo però non è pronto, serve un ragazzo bravo e pronto per poter creare all'interno del gruppo la sana competizione. Quindi, ecco, insomma... No, poi non è da trascurare il fatto che Mazzari quest'anno è un traghettatore e quindi tanti acquisti particolari non si possono neanche fare, perché poi a giugno verrà un altro allenatore che magari avrà un'idea di gioco che non sposa gli acquisti fatti oggi, quindi insomma non è semplice come possa sembrare. Sarebbe molto superficiale questa cosa, fare degli acquisti oggi, pensate che chi... Ma se non è l'allenatore, se non è l'allenatore... Sai, io penso sempre che all'interno di certi ambienti se ci sono degli accordi come accade con Spalletti che prima dell'allenare a Napoli si era accordato già a gennaio, si possa occultamente già lavorare in certe situazioni, quindi anche avere dei confronti sulla realtà privata, la cosiddetta linea rossa, tra Presidente dell'Americo e Russia, ma sto ragazzo mai è positivo. Spalletti è stato un caso, giustamente Spalletti anche perché ha fatto bene a Napoli, già sapendo che il Napoli sarebbe stata la sua squadra del futuro, l'ha studiato a fondo, Spalletti quando è venuto a Napoli già il primo giorno, già sapeva cosa fare... Perché ha iniziato a gennaio prima di mettere il piede a giugno. Però non è sempre così, perché non dimenticare che tanti allenatori hanno... Però oggi sei in quella fase, tu oggi hai come prima necessità a gennaio, prima degli acquisti, di trovare l'allenatore, faccio fatica a pensare che ancora una volta De Laurentiis non abbia imparato la lezione e non abbia individuato il profilo ad atto per giugno, noi possiamo non sapere, ma credo che negli ambienti segreti il probabile nuovo allenatore del Napoli già sia quasi certo e stia lavorando anche in quel senso. Io penso che il Napoli già sa che, ad esempio, pure un allenatore che gioca a quattro dietro... Bravissimo, già sa, già sa... Sì, però, Traorì, è un acquisto... Già sa se sarà De Zerbio Conte, per dire due nomi eclatanti, magari saranno Motto e Palladino, ma già sa, oggi Napoli già ha avuto un impegno secondo me... Tu hai preso in prestito, quindi non ci sarà neanche bisogno poi di riscattarlo, perché non c'è neanche l'obbligo, quindi Traorì l'hai preso, però vado a giugno e può andare... Ottimo operazione finanziario. L'acquisto che hai fatto è Ngonge, che secondo me ha le stesse caratteristiche di Politano e se prendi un allenatore che gioca 4-3-3, tra Ngonge e poi, chiaramente, Politano è una spanna. E chiaramente... Oggi Politano è superiore a Ngonge, però hanno le stesse caratteristiche, più o meno, che si sono simili. Quindi, quindi... Pensate anche a dei cambi modulo. Ma il cambio modulo, ecco, questo potrebbe essere un'idea... Ti serve il cambio dei trequartisti, no? Ti serve... Però c'è Lindstrom... Cioè, ragazzi, ma vi rendete conto che Lindstrom e Raspadori, al di là di Osimène, poi quando tornerà e come tornerà... Cioè, Raspadori e Lindstrom, questi due giocatori, quando ci sarà Osimène, cioè da metà febbraio in poi, questi non rischiano di non giocare più se non facciamo il cambio di modulo. Allora, Francesco, questa stagione è quasi andata. Devi arrivare al quarto posto. Se hai preso atto che c'è stato un fallimento di un progetto, tu non aspetti Giugno per mettere mano al progetto. Già ci stai lavorando da quando hai preso atto che hai fallito la stagione. Quindi tutto quello che Napoli fa oggi non è per l'immediato, ma è per ricostruire una squadra competitiva da oggi in poi. Però attenzione, Gregorio. Quindi con un nuovo allenatore, una nuova rosa, delle cessioni eccellenti, quelle che ha sempre fatto in Napoli. Attenzione, Gregorio, a dire che è una stagione già compromessa questa, perché non lo è affatto. Oggi si ha tre punti dalla Champions. Paolo, tra una settimana non hai più la Supercoppa. Hai da giocarti una Champions e il campionato. E hai detto niente. Ma non c'è la rosa dell'anno scorso, ragazzi. È la rosa dell'anno scorso. I Napoli devono ritrovare quei calciatori per giocarsi quelle chance. Non dal mercato puoi elevare il livello tecnico. Dal mercato deve portare competitività nei ruoli e area nuova negli spogliatori. Ma migliorare i titolari del Napoli, oddio. Però non credo che si vadano a fare acquisti già mirati. Io penso che il Napoli questa stagione non la vuole assolutamente perdere, anche perché non andare in Champions, anche se il Napoli economicamente è una società solida, però comunque non andare in Champions... Ma ci deve andare in Napoli dell'anno scorso, Paolo. Non ti devi portare il nuovo acquisto. Ma ci sarà una Champions con un nuovo format, quindi non penso che De Laurentiis non vorrà partecipare a questa Champions. Quindi si punterà quest'anno ad arrivare quarti almeno. Io credo, penso, si voglia puntare anche a provare in finale di vincere. Poi a partita secca può succedere di tutto la Supercoppa e magari fare uno scherzetto a Barcellona che è molto difficile. Allora, possiamo vedere quelle belle immagini? Noi dobbiamo andare prima in pubblicità, lo facciamo così. Andiamo prima in pubblicità e poi ci torniamo, facciamo vedere le immagini da Riyad e vi dico anche come sono un po' gli orari della giornata di domani. Non so adesso se le conferenze il Napoli le trasmetterà, non le trasmetterà, questo poi lo capiremo nella giornata di domani mattina. Allora, intanto andiamo in pubblicità, dai. Vi avevo detto delle immagini e speriamo anche di collegarci con il collega di Tutto Mercato Web a Riyad. Vediamo se riusciamo nei prossimi minuti. Allora, queste sono le immagini di questa mattina con il Napoli che rientra in albergo dopo aver fatto allenamento. La squadra si sta allenando su questo campo proprio di questa squadra che avrebbe voluto Politano. Poi non se ne è parlato più, quindi diciamo per ora la situazione sembra rientrata. Le notizie invece di domani sono che alle ore 17, credo ora italiana, ci sarà la conferenza stampa di Walter Mazzara accompagnata da un calciatore e poi alle 19 ci sarà l'allenamento della squadra mentre invece la Fiorentina farà conferenza stampa a Vincenzo Italiano alle 18, credo sempre orario italiano. Queste sono comunicazioni che stanno arrivando da Riyad, poi vedremo di averne ulteriori. Allora, Paolo, intanto vogliamo un attimo fare il punto su quello che è successo, così torniamo indietro, poi dopo sentiamo anche i tifosi cosa ne pensano, sugli acquisti, su quello che abbiamo detto, ci siamo confrontati, a me fa molto piacere perché ci siamo confrontati, ma noi non dobbiamo essere per forza tutti d'accordo. Attenzione, allora è meglio non essere d'accordo perché sennò ci appiattiamo su queste decisioni. Io ribadisco l'unico concetto, continuo a dirlo, che avrei voluto subito due giocatori pronti, si è preso Mazzocchi subito, perché bisogna... Poi Zanole ancora non era ufficializzato fino all'altro ieri, poi vabbè avevamo giocato l'altro. Io volevo due giocatori pronti, uno in difesa e uno a centrocampo. In Gonge mi sembra che lo sia. Pronto per i due ruoli che vi ho chiesto. Per i due ruoli sì, questo è vero. Mazzocchi, Zanole, hai fatto uno step in avanti, sì o no? Boh, sì. Zerbin, parlo di Caselle, perché poi Uresch, Zerbin, Gonge, fai uno step in avanti, sì o no? Sì, sì, assolutamente sì. Non lo fai, non lo so, sul Traore, perché la Helmas, che diciamo era uno dei migliori del Napoli, in assoluto, un cotitolare, Traore è da... Allora, se... Di prendere, chiudo, ma anche il difensore centrale. Tu a centrocampo non vedi la mancanza. Ma perché tra poco torneranno tutti. Ma anche il sacio vuole tempo. Ma se tu non c'è di Demme, che oggi non c'è, domani ci sarà, dove lo metti un altro centrocampista? Se tu non c'è di Gaetano, dove lo metti un altro centrocampista? Torno a ripetere. E poi a gennaio, quale centrocampista vai a prendere? Samardi c'è un buon calciatore. Non lo discutiamo. Ma non è detto che arriva, mette i piedi a Napoli e fa il fenomeno. No! Che questa stagione disgraziata possa affondare nella metodità di tutti. Allora ripeto, perché molti amici, li sto leggendo, non hanno capito il concetto. Se una società ha preso atto del proprio fallimento del progetto tecnico che aveva imbastito appena tre mesi fa, deve guardare avanti non pensando solo all'immediatezza. Perché per il tifoso ci vorrebbe un calciatore al giorno. Ogni volta che manca uno ci vorrebbe uno al mercato per sostituirlo. Questo è fatto male per un mese, andiamo al mercato. Questo c'è il raffreddore, andiamo al mercato. Non funziona così. Non funziona così. Se il Napoli deve ripartire, rifare una squadra competitiva, deve lavorare in questa prospettiva, pensando all'oggi e al domani. E credo che una grande società che ha sbagliato poco in 19 anni, perché a leggere quelli che ho leggo, sembra che adesso qualsiasi acquisto faccia il Presidente, sia abbocciato perché il Presidente non capisce nulla di calcio, lo capivano solo gli altri, gli acquisti li ha fatti tutti, giuntoli e altri. Ma io le polemiche esterne infatti non mi piace. Come un pazzo chiuso in una stanza, questo è il concetto che passa. Io voglio difendere dell'Aurelio. Quest'altro l'Aurelio è indifendibile, ha commesso il peggio del peggio, però gli è servito da lezione. Io credo nell'intelligenza degli esseri umani. E credo che se uno prende atto di un proprio errore e fallimento, se ne ha preso atto lo step successivo è migliorare. Se non lo fa, sono solo parole vuote. E siccome questo è un uomo che in 20 anni ha regalato il più grande Napoli della storia, eccetto il numero uno al mondo, il più grande Napoli della storia, eccetto il più grande numero uno del mondo, lo dico a voce alta. Oggi non è tutto da buttare. Qua abbiamo una squadra che ha vinto lo scudetto strameritando. Non sono tutti brocchi, sono demotivati, pancia piena. Qualcuno sta già dall'altra parte. È una società seria, lavora su questo. Quindi gli acquisti che arrivano, io sono fiducioso come lo sono sempre stato, anche quando è arrivato Cajusto, che per me è un buon giocatore. Tutti quanti dicono, ma dove andiamo con Cajusto? Un buon giocatore. In un anno di giocati come questo, dove i titolari stanno giocando una merda, ma perché devo aspettarmi che chi arriva oggi faccia il fenomeno, se il fenomeno poi non lo è, ma è un buon giocatore. Quindi io non ho la vostra tendenza a bocciare tutto quello che fa il presidente. No, ma no, bocciare il presidente. Leggo, ci serve i direttori sportivi, ci stanno, se non è l'uso, non vi piace? Fate una ragione. Anche quando prendiamo giuntoli a Carpi non era nessuno. La filosofia è questa. Non va a prendere Marotta, se non dovete rifare l'Inter. Non lo farà mai. Mettetevelo qua. Quindi le scelte le ha fatte. Dove ha sbagliato deve rimediare. Su Meluso nessuno può parlare. Tutti se la vivono con questo povero, Cristo non ho capito perché. Prego, posso dire una cosa? Finisco. Gli acquisti sono fatti, non solo, per l'autonomia del presidente. Sono sempre concertati con un team di gente. E in più, io sono sicuro, anche col prossimo allenatore. Ah, ecco, bravo. Perché non si può arrivare a febbraio quasi. Sì, senza di fare gli acquisti estemporanei, poi arriva Colte. Quindi? Parlo di Giuseppe, Francesco di Giuseppe, che parlo di Giuseppe, ti facciamo tu. Quindi secondo te ci sta già il San Pino del nuovo allenatore. Sicuramente così, non te lo potranno mai dire, ma chi sa di calcio, gli viene un po' di calcio. Lo sa che è così. Stanno programmando le società di serie C in previsione. Già vanno con gli allenatori. Perché se tu oggi non sai con quale allenatore starei a giugno. Ma io sono convinto che il Napoli abbia già il prossimo allenatore. Allora, no, io voglio dire una cosa. Ma io sono convinto che il Napoli già ha l'allenatore. Anche io, perché il Napoli sapeva già da marzo che Spallezza sarebbe andato via e l'allenatore l'abbiamo preso a fine giugno. Ma il tipo di allenatore l'ha già fatto anche il profilo. Ma il tipo di allenatore ci mancherebbe che il Napoli non sapeva neanche che tipo di allenatore prendere. Si voleva prendere un allenatore che faceva un determinato gioco. Però poi si è andato a prendere Garzia che faceva ripartenza, insomma, difese e contropiede. Quindi non era Garzia che usava il 4-3, ma con principi totalmente diversi da quelli che ha fatto Spalletti, da quelli che faceva Sarri, insomma. Da quello che fa Mazzarri. Mazzarri ha la stessa cultura calcista di Garzia. Sono due attendisti che vogliono ripartire. Addirittura con Mazzarri il meglio l'ha fatto con il 3-5-2. E, diciamo, ha voluto copiare il 4-3 di Spalletti. Copiare, tra virgolette, perché non c'è niente del Napoli di Spalletti. Comunque, dicevo, io non sono convinto che il Napoli abbia già l'allenatore. Il profilo, chiaramente, un allenatore che fa... Potrebbe, però. Esatto, esatto. Per quanto riguarda Traoré, io ricordo il Traoré di Sassuolo. Per me è molto più forte di Elmas. Io ero innamorato di questo calciatore, tant'è vero che il Napoli lo voleva prendere. E però, secondo me, c'è stato un problema di costi, perché il Napoli non voleva spendere 30 milioni. Ma all'epoca del Sassuolo li valeva tutti. Sperando che tra 3-4 partite vedremo almeno parte del Traoré del Sassuolo. Quindi, da questo punto di vista, forse miglioriamo in quel punto di vista. Su profilo, siete d'accordo che è un signor giocatore? Assolutamente, l'ho detto all'inizio. Al 100% è un signor giocatore? Assolutamente sì, l'unico dubbio è sulla condizione... E questo lo sappiamo. Quindi, insomma, ecco, questo volevo dire. No, no, ma se tra... Però voglio dire, non voglio fare... Ah, no, no, riguardo De Laurentiis... Però, ascoltami, tu dici che De Laurentiis ha sbagliato, diciamo, non è da condannare, però... Tutto quest'anno ha sbagliato. Quest'anno ha sbagliato tutto. E ci stanno le critiche, Gregorio. Assolutamente. Perché una squadra che ha vinto... Allora, io ti faccio un esempio. Il Manchester City, che ha fatto il triplete, ha preso un certo Guardiol, che l'ha pagato 90 milioni di euro. Una squadra quasi perfetta. Il Real Madrid ha vigliato Bellingham, cento e passa milioni di euro. Quindi non esiste squadra che non si può migliorare. Il Napoli, De Laurentiis in primis, è stato troppo presuntuoso. Perché, Caglius, sono d'accordo con te, è un buon prospetto. E rimane adesso... Un buon giocatore. Non è un buon giocatore a sbagliare. Ma non è un giocatore in grado di mettere il Pepe ad angissà in quel ruolo lì che sa già che... Ma Caglius è venuto a prendere il posto di Don Belé. Non doveva farti la differenza. L'unica labura dell'anno scorso è Kim. Non mischiamo le carte. Kim è stato non sostituito nell'immediato. E ancora oggi non è sostituito, visto che Nathan, che adesso doveva dimostrarci dopo sei mesi di essere un signor calciatore, non c'è. Ma Don Belé non c'entra nulla con angissà. Don Belé è un centrocampista offensivo. Nella casella nel ruolo. Tu sostituisci uno con un altro. Poi puoi pigliare uno che ha la caratteristica rispetto all'altro più offensivo. Ma la casella è quella. Allora, la casella è una cosa. Tu sostituisci un portiere con un altro portiere. Un altro portiere. Poi c'è un portiere che è bravo con i piedi e uno nella porta. Ma sono entrambi i portieri. Però la casella è una cosa e il ruolo è un altro. Al Napoli serviva un vice angissà, ma uno già pronto. Pronto. Ah, bravo. Che praticamente mettessi anche un po' in crisi. Angissà. Angissà, perché presto dato questo è pronto. Cagliusti era titolare in Liga Vanna, non è che Cagliusti giocava nel Giugano. Ma dai, ma del Renzi. Capite, è Renzi. Allora, se tu prendi un giocatore. Ma io i camoranesi lo pensi dal Verona. Ma non potete dire dal Renzi. Ma se uno è bravo è bravo, se uno non è bravo non è bravo. Ma una cosa è i camoranesi che già giocavano nel campionato italiano. Ma Osimène è stato preso da Lille e pagato 60 milioni. Non dal PSG, anzi 80 milioni. Però Osimène, permetti che Osimène... Cioè, uno è bravo, non è bravo. Eh, è bravo. E allora, o non ci fidiamo... Cagliusti, 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 non ci fidiamo più di quello che fa in Napoli. Ah, ma questo è sicuro. Siamo rimasti scottati, adesso non ci fidiamo più. Ma io invece voglio guardare oltre la scottatura. Io sono convinto che c'è un progetto e ci sono delle idee. Qua invece si pensa che è tutto campato in aria. Oramai non si sa più quello che si fa. Sempre il portiere si rompe l'attaccante. Non è così. Il tifoso ragiona così. Che va a battere e ti lavora. Tu quando vinci lo scudetto non puoi fare il passo indietro. Ho capito, ma è fallito quel progetto. Non parlare più. Fai venire Paolo, dai. Tu non puoi fare il passo indietro. Non puoi fare il passo indietro perché hai preso Nathan, che è un buon prospetto, ma rispetto a Kim voglio dire, Nathan deve portare il secchio alla borsa. Ha ragione Corvo quando dice il fatto che il fratto è vincito. Allora, fammi finire, oggi a chi prende listo. Se non sono questi i profili. Allora, ma tu mi stai facendo un'analisi che ti ho dato ragione. Il Napoli ha sbagliato gli acquisti d'agosto perché non è rimediato. Ma allora, ma tu hai preso? Adesso che deve fare il Napoli? Lascia stare adesso. Deveva da prendere il trentenne? O il cacciatore di dubbio talento come un buon gioco? Il Napoli il trentenne non lo prenderà mai. Il Napoli il trentenne non lo prenderà mai. Paolo, chi potrebbe prendere? Ma in quale ruolo? No, nel ruolo che dici tu adesso, Nathan, io avrei preso un giocatore più fatto di Nathan. Ma è ovvio, soprattutto in difesa dove ci vuole un tantino di esperienza. Si è andato a prendere un giocatore che, insomma, sappiamo tutti che il calcio brasiliano è un calcio totalmente diverso da quello europeo. E questo è stato un errore fondamentale. Assolutamente. Sapevi che Guayesus non poteva fare più di dieci partite consecutive. Sapevi anche che Osticard l'anno scorso non ha mai giocato. E sapevi anche che Cagius, voglio dire, può fare il titolare nel Rennes che è arrivato settimo nel campionato francese che è di gran lunga inferiore al campionato italiano. Questo è, che poi sarà un buon prospetto, io lo dico, come anche Nathan. Però, secondo me, se tu vinci lo scudetto non puoi fare un passo indietro a prendere Cagius e Nathan. Devi andare a prendere. Allora, adesso ti fatti il passo indietro. Molto è facendo un altro passo indietro, ti vuoi fare una domanda. Io lo metto prima. Lo vai a prendere. Quanto costa? 50 milioni e lo vai a prendere. Ma lo ho detto io. Io ti faccio un'altra domanda. Hai detto bene, sono d'accordo. Ad agosto abbiamo fatto un passo indietro. Adesso quello che stiamo facendo è un passo avanti o un altro passo indietro? Di questo ti voglio chiedere. Adesso, questo è un altro discorso. Adesso il Napoli si sta organizzando, e anche in base ai tempi, perché chiaramente il mercato di gennaio non ti offre tantissimo, e servono giocatori pronti. E secondo me oggi sta facendo bene a prendere giocatori che conoscono il campionato italiano. Questo vuoi dire. Qui non passi in atto rispetto alla campagna di agosto. Quando dici, troppo critici, ha sbagliato De Laurenti, perché il Napoli, nessuna squadra, l'anno successivo che ha vinto il campionato, è a 20 punti dalla prima e ottavo in classifica. Si è sbagliato? Ma forse è un po' di dubbio, ma io lo difendo. No, no, no. Io sto dicendo. Però stiamo dicendo tutti l'assistente. Se abbiamo sbagliato ad agosto, vi rifaccio la domanda, perché Francesco dice, l'ha detto nel suo editoriale, stiamo sbagliando pure a gennaio. Non perché non siano avanti i calciatori. Io non sono immediati. Non sono nei ruoli. Nei ruoli. Non sono immediati perché occorre oggi a gennaio. Benissimo. Perché magari a giugno qualcuno dice sto studiando con l'Itana e Cavarre. Ma guarda, te lo giuro, io sono contento. Io sono d'accordo con te su certi aspetti. Per me oggi, in Gong e Traorì, potrebbero anche non giocare mai. Cioè, o giocare poco. Mi segui? Cioè, non da mo', perché la Supercoppa, tu hai ragione, e dici, Francesco, ma la Supercoppa vuole qua. No, ma con la Lazio, il 28 di gennaio, quando giocava, il 25 di gennaio, io vorrei un giocatore che a centrocampo si mette lì e mi sostituisce anche, sa. Alla Lazio mancano 15 giorni. Probabilmente, se non c'è Cavarre squalificato, potrebbe giocare in Gong e, quindi, in quel momento, hai già una soluzione. a sinistra, lo metti dall'altro lato. Però faccio fatica a pensare che arriva a Gong e siede tutta ad un tratto Raspadoni, perché oggi anche Raspadoni fa il titolare, perché non giocava così bene. Anche per un discorso di gerarchia, io penso, ma ora si, stiamo guardando troppo avanti, però penso che stiamo guardando troppo avanti. Se non fai giocare Lindstrom contro la Lazio vuol dire... È la fine. Anche per una questione di gerarchia, perché arriva a Gong e, ok, ma non lo puoi mettere subito i tolari. Se lo vede a Mazzarri, si chiede la cia su Lindstrom, perché lo vede poco. Lo vede pochissimo, è facissimo. Quindi è più Zerbin. Sbagliando, questo è un altro errore. Ma dove è lui, ragazzo? Oggi fidiamo delle scelte che fa, perché non penso che si sia rincoglionito tutto in un botto. E quindi lui sa che in questo momento Zerbin è più immediato di... Oppure... Però guarda caso Zerbin poi andrà al frosinone, quindi questo è un altro controsenso. Però per me Lindstrom, Zerbin è una gamba di Lindstrom, secondo me. Ah, ma io sono d'accordo con te. Doveva essere così, a prendere un pagamento di 5 minuti. Ma Lindstrom non ti ha dato nulla fino ad oggi. Anche se Lindstrom non sta, però, già si vede che secondo me ha un'altra gamba, un'altra... Ma può darsi che sto ragazzo non sia ambientato penamente, può darsi che stava davanti a delle difficoltà personali a vivere questa nuova realtà. Ci sono cose che certamente non possono uscire fuori tutto insieme. Però sicuramente se un talento cristallino come Lindstrom non rende, e faccio sempre fatica a pensare che uno sape giocare solo a destra o solo a sinistra, lo abbiamo sempre detto Paolo, perché se sei giocare a calcio, giochi a calcio. Poi se sei più forte in quel ruolo è un conto, ma non è che se giochi in decendato di 20 metri sei un brocco. No, ma faccio fatica a pensare che Lindstrom possa giocare solo da tre quartisti. Il calcio di oggi, il solo, non esiste, perché altrimenti non arrivi a certi livelli. E' meglio che ve lo mettete qua. Le squadre che nominiamo hanno calciatori universali. Il Siti compra solo calciatori universali. Questo è il calcio di oggi. De Zerbi vuole solo calciatori universali. Infatti poi non ci meravigliamo di Traoreo che può fare tre o quattro ruoli. Quindi vedo, o lo è o non lo è. Il Napoli sta facendo una campagna acquisti che delude i tifosi perché nell'immediato non c'è un titolare. Questa è la verità. E crede che a Gennaro prende un titolare, puoi prenderne uno e spera che il Napoli lo faccia come difensore centrale. Buongiorno, Scalvini, vai, calci i soldi e li prendi perché là, al di là dell'allenatore che verrà, non puoi sbagliare, né nel motore né in altre cose. Perché è un calciatore. Sugli altri, ragazzi, dobbiamo fidarci di quello che ha sempre fatto il Napoli, dello scouting. Non è che adesso ha sbagliato un paio di acquisti. Non sono più buoni, non sanno più fare scouting. Non, assolutamente no. Perché fino ad oggi il Napoli è campato quello di quello, quello scouting, di quello che hanno trovato. Sai com'è, Gregor, se la sono un po' cercata perché sapevano dell'addio di Kim, sapevano dell'addio di Spalletti, sapevano di tante cose e hanno pensato più a festeggiare e a organizzare feste che a comprare i giocatori giusti. Questa è la madre di tutti gli errori. Allora, tu vuoi, ad esempio, stai perdendo te, vuoi le Norman, che mi piaceva molto. Ah, bravo. Vuoi Danzo, che è un altro profilo che piaceva. Bravo, bravissimo. E c'è la clausola di Cistola, ti paga 30 milioni. Bravo, vai, l'altro prendi. E se tu li vuoi i soldi della clausola, anche gli altri vogliono. E quindi devi mettere mano al portafoglio e andare a comprare i profili giusti. Con il difensore centrale sono veramente d'accordo con lui. Perché, no, sembra una sciocchezza, però Wajesus all'inizio ci ha fatto perdere 5-6 punti perché ha fatto degli errori. Magari con il difensore più pronto quei punti non li perdi, ora sei quarto ancora in classifica. Le stagioni si decidono anche per dettagli, insomma, quindi perciò dito è stata fatta una leggerezza, si è fidato troppo di questo gruppo. Allora, noi dobbiamo vedere le slide, però andiamo in pubblicità adesso, poi vediamo le slide, poi apriamo le linee, ci state scrivendo in tanti, vedo che si è aperto tanto il dibattito, da un lato mi fa piacere, ma sempre però nella massima correttezza. Te lo chiedo ai diffusi. Fai un sondaggio, non ce l'abbiamo oggi. No, oggi non abbiamo fatto il sondaggio, però nella massima correttezza, ripeto, ai nostri telespettatori, si può essere d'accordo con me, si può essere d'accordo con Gregori, si può essere d'accordo con Paolo, ognuno deve dire la sua, ma l'importante è essere schietti nel modo di parlare. Educati. Ovviamente è sempre l'educazione. Perché sono sempre delle opinioni personali. Esatto. Solo di noi sciolite il Vangelo. Dico ad Alfredo Tizzano, dice, è bello comprare con i soldi degli altri. Alfredo, ma non è un discorso di soldi, lo ribadisco, forse all'inizio io sono stato molto drastico, a me non interessa che è costato 3 milioni o è costato 10. È chiaro che De Laurentiis è bravo a fare delle operazioni e persegue una strada. Il problema che io continuo a dire a me, in questo momento, se io nella scala dei valori devo prendere un calciatore, Gong e Traorelli avrei presi a fine mercato. Avrei preso prima Paolo Serra e Gregorio Morrone che mi servono uno a difesa e uno a centrocampo. Questo sto dicendo io. Poi il calcio è tutto il contrario di tutto. Ricordati che Anghissà quando fu preso a zero c'erano state tantissime critiche. Questo è arrivato a Fulham, che retrocesso. È un campionato funzionale. Vedi che non hai detto tu di un campionato francese. Vale anche per Anghissà. Vedi? Aspetta. Ma sai che ti voglio bene. Non mi dico che Cagliusta può giocare solo nel Reng. Perché se vedo come tu, Anghissà può giocare solo nel Fulham. Non possiamo bocciare il ragazzo dopo sei mesi i più brutti del calcio Napoli di De Laurentiis. No, di vero forza mi l'ho spiegato male. Io non ho bocciato nessuno. A me questo è arrivato. No. Come se non fosse un calciatore da Napoli. Io non lo boccio ancora. A parte che sono due background diversi. Anghissà ha fatto una finale di Europa League e giocava nel Marsiglia che era una delle tre squadre più forti e più titolate del campionato francese. Poi è andato al Fulham quindi ha fatto lo step andare in Premier League a giocare nel campionato più bello del mondo. Pagato 30 milioni di euro e passi. Sì, i party. A chissà. A chissà. Poi il Fulham è retrocesso. Questo non vuol dire niente. Ma su Anghissà il Napoli poi già c'era ancora con tempo prima che andasse al Fulham. Quindi sono due background diversi. Probabilmente già erano su Trove e prima che andasse. Gioran gioca nel Rams che è la settima ottava squadra francese. Quindi Francia non è neanche l'Italia quindi non ha fatto nessuna finale di Europa League da titolare e permettimi che sono due storie totalmente poi non l'ho bocciato ho detto che è un buon prospetto solo che in una squadra che ha vinto lo scudetto per me ci volevano calciatori più pronti sicuramente pronti però non l'ho bocciato nessuno io ho detto che sia giusto che sia Nathan che io Nathan farei giocare occhi chiusi al posto di Guayesus ho detto che tutte e due sono entrambi due ottimi profili ma non sono pronti nell'immediato c'è un fatto a parte che Nathan adesso è infortunato però bisogna dire la verità che prima dell'infortunio Mazzarri l'aveva fatto scalare fuori dalle generarchie qui significa che non lo vedeva così forte come magari tutti pensavano però permettimi ora Mazzarri figurati insomma lui allena in serie A io faccio settore giovanile campionati regionali però permettimi io non sono d'accordo su questa sua scelta perché per me tra Guayesus e Nathan io preferisco 10.000 volte Nathan al centro della difesa però Mazzarri lo conosciamo Mazzarri lo conosciamo in difesa vuole giocatori esperti e questo il suo credo ricordiamo anche nel Napoli e lui si affidava ai giocatori esperti i giovani non li vedeva questo è Mazzarri io per questo quando è stato preso Mazzarri avevo i miei dubbi perché non si sposa con la politica del Napoli che punta sui giovani quindi Mazzarri lo conosciamo saluto Luigi Prudente dice sono d'accordo quest'anno è solo confusionario dobbiamo sperare solo nel quarto posto poi nell'ultima giornata anche nell'ultima giornata ma va benissimo come obiettivo sì vabbè poi è chiaro vedremo il Napoli come andrà come evolverà anche il campionato ci sono tante squadre la Roma ha preso dei rossi attenzione vediamo che Roma sarà ci fermiamo andiamo in pubblicità vediamo le slide poi apriamo le linee fermi lì eccoci eccoci tornati allora stavamo parlando ancora di mercato situazioni cup minus ragazzi l'avremmo preso veramente prima però il Napoli non so chi scelse poi il Napoli scelse qualcun altro forse lo botti non me lo ricordo però era un profilo seguito molto tant'è vero c'era un'idea e invece poi lo prese alla fine lo prese l'Atalante fu molto vicino a passare con la maglia del Napoli pallino di giusto lo seguiva da tempo è un giocatore poi è andata come è andata allora noi speriamo sempre di collegarci con Riad con il collega di tutto mercato web però adesso lui è impegnato con alcune cose personali quindi mi ha detto vediamo se ci riusciamo dopo io intanto però darei spazio a Paolo con le slide così le facciamo vedere poi apriamo sicuramente le linee vediamo insomma di fare un po' di telefonate insieme allora io ho preso dei frame della partita di Napoli Salernitana soprattutto in fase di possesso del Napoli perché è lì che ho visto tanti cambiamenti nel Napoli di Mazzarri e che lui complice anche il ritiro che ha fatto la squadra azzurra si è lavorato si è lavorato molto su determinati concetti e li ho visti nella partita molto più insomma marcati nella partita contro la Salernitana il Napoli contro la Salernitana ha costruito a tre quindi un Napoli che in fase di costruzione in fase di sviluppo ha giocato addirittura 3-4-2-1 3-4-2-1 guardiamo guardiamo in questa situazione siamo nel primo tempo 35-36esimo nel primo tempo la costruzione a tre del Napoli Rachmani Wajjesus di Lorenzo chiaramente a tre Mario Rui che sta salendo in alto a sinistra e Politano guarda Politano in alto a destra si forma chiaramente questa linea a quattro centrocampisti formata da Politano Kajust Lobodga Mario Rui e i due Kvarascheli e Gaetano alle spalle dell'unica punta Simeone non so se riesce a vedere questo 3-4-2 non si vede Simeone perché diciamo è coperto non veniva nella slide ma è chiara questa impostazione di gioco questo 3-4-2-1 con Kvarascheli che nella partita contro la Salernitana ha quasi sempre giocato nella posizione centrale anziché giocare a sinistra quindi per evitare le gabbie da parte degli avversari si è posizionato in una posizione molto più centrale questo è il primo frame andiamo ancora avanti questa è ancora costruzione alta del Napoli ancora 3 si vede Guayesus palla raccamane di Lorenzo i due di centrocampo questa volta non è Kajust ma è Gaetano i due si sono interscambiati Gaetano e Lobodica questo 3-2 e poi guarda Kajust che va a fare addirittura la seconda punta vicino Simeone guarda la posizione di Kvaraschelia più centrale e guarda Mario Rui altissimo sulla sinistra Politano non si vede ma è lui alto addesa quindi anche qui questo 3-4-2-1 1-2 insomma in questo caso forse più 1-2 perché Kvaraschelia in questa occasione viene nella parte più centrale e diventa un 3-4-1-2 andiamo ancora avanti ecco qui fase di costruzione del Napoli e Wajesus con la palla al piede si vede guarda solo il piedino di Rachman in posizione centrale Mario Rui riceve palla vai avanti Davide riceve palla vai ancora avanti ecco qua si vede la esatto da palla a Lobodica vai avanti e sale inizia a salire per andare a fare l'esterno alto qui Lobodica guarda la posizione di Kvaraschelia dove sta ancora centrale e guarda Gaetano invece questa volta prende lui la posizione di Kvaraschelia e Kvaraschelia viene dentro al campo vai avanti stiamo provando a muoverci sì Lobodica guarda Mario Rui che avanza Lobodica vede Kvaraschelia in una posizione quasi di centrocampista serve Kvaraschelia va ancora avanti guarda qui la posizione di Kvaraschelia mai visto in questa zona del campo addirittura nel cerchio di centrocampista da centrocampista aggiunto e poi insomma da centrocampista smista il gioco qui si vede anche guarda tre di Lorenzo Rachmani Guaiesus e i due centrocampisti Kvaraschelia Lobodica e gli altri che vanno a fare densità in avanti poi Kvaraschelia smista palla a Politano quindi allarga per Politano quindi questa ripeto questa posizione di Kvaraschelia che fa un po' il trequartista o anche il centrocampista come è successo in questa occasione per evitare ripeto la marcatura sfissiante degli avversari potrebbe essere una chiave di lettura una chiave anche nella partita contro la Fiorentina perché un Kvaraschelia trequartista dove la Fiorentina gioca con questo 4-2-3-1 quindi queste due linee di quattro diciamo così tra difesa e centrocampo Kvaraschelia posizionandosi in mezzo a queste due linee potrebbe essere ecco la variante del Napoli la chiave tattica che il Napoli potrebbe usare contro la Fiorentina e potrebbe far male alla Viola vai ancora avanti ecco qui ancora costruzione a tre guarda ancora la posizione di Kvaraschelia vicino all'arbitro guarda dove sta questo è un 3-1 è sempre un 3-1-5-1 perché guarda sono i tre difensori adesso non si vede Guayesus si vedrà più tardi guarda Mario come sta alto dall'altra parte c'è Politano quindi questo centrocampo a 5 guarda Kvaraschelia e Kajusta alle spalle di Simeone vai avanti questa è un'azione manovrata passa adesso si vede è completamente a 3 guarda la linea di centrocampo ora diventa 3-4-2-1 Guayesus passa la palla a Di Lorenzo vai ancora avanti Di Loquesta è costruzione aspettano che l'avversario attirano l'avversario nella propria metà campo Di Lorenzo per Racmani ancora ho visto Racmani molto più regista contro la Salernitana vai avanti Davide ecco qui palla per Racmani e verticalizzazione guarda Kvaraschelia dove sta sempre vicino l'arbitro verticalizzazione per Kvaraschelia che si mette tra le linee vai ancora avanti quindi non palla non arriva all'obbotto verticalizzazione per Kvaraschelia guarda qui alle spalle proprio della linea dei centrocampisti della Salernitana con Gaetano che sta vicino quindi ecco ritorna questo 3-4-2-1 vai ancora avanti qui Kvaraschelia aggancia il pallone qui è un'azione pericolosissima del Napoli dove lui controlla e potrebbe lanciare subito in profondità Simeone perde il tempo della giocata molto egoista qui avanza e cerca la conclusione da 30 metri circa sbagliando perché e qui Simeone ricordo che si è arrabbiato molto perché Simeone sta già andando in profondità ed è in vantaggio su Fazio che non è un fulmine di guerra a livello di velocità e questa è un'azione che poteva fare molto male quindi abbiamo visto in 7-8 azioni del Napoli la posizione che diventa trequartista e non più un esterno a sinistra ancora vediamo l'ultimo l'ultima slide dove lui prova la conclusione ecco qui dove poteva insomma ripeto passare la Simeone qui si arrabbia molto la giugno giustamente andiamo ancora a vedere Kvara ha il tiro ma non ha un tiro del genere ecco qui ora Kvara passa a sinistra siamo nell'ultimo quarto di gara dove il Napoli addirittura è imposta il Napoli contro la Sanitana negli ultimi 10 minuti ha fatto 2-4-4 con i due centrali che impostavano poi queste due linee tra il centrocampo e d'attacco che andavano a fare densità qui Kvara Schelia a destra c'è il pallone pallone tra i piedi la passa a Di Lorenzo vai avanti Di Lorenzo per Cajust trasmette a Cajust qui c'è lo scatto di Kvara Schelia Cajust di prima qui molto bravo vai avanti Davide ecco qui tocco di Cajust per Kvara Schelia nell'insolita posizione di attaccante a destra vai ancora avanti si accentra e poi crossa per Simeone che colpisce male di testa anche questa potrebbe essere una chiave contro la Fiorentina insomma con Kvara Schelia che si sposta da una parte e dall'altra e non da i cosiddetti punti di riferimento per eventuali raddoppi lo puoi fare anche con Ossimen questo tipo di gioco o no? ma guarda secondo me sì anche perché il centravanti in queste azioni non è preso in considerazione qui si punta molto sulla posizione di Kvara Schelia tra le linee quindi secondo me lo puoi fare tranquillamente andiamo ancora a vedere il 2-4-4 questa è la fase finale dove si esatto cross di Kvara Schelia per Simeone ecco qua il 2-4-4 del Napoli questi sono i due Racamani e Guaiesus che impostano questa linea 4 composta da Mario Rui Caciussolo Bodka e in altro Di Lorenzo poi c'è entra Raspadori Zerbin Alto e Kvara Schelia quando è entrato Raspadori come abbiamo giocato io l'ho sempre 4-4-2-4 diciamo così con Raspadori però che veniva a prendersi anche il pallone dentro in mezzo al campo perché lui è bravo a fare questo 4-2-3-1 no 4-2-4 perché Raspadori è stato messo un po' più vicino a Simeone e infatti poi c'avevi Zerbin a destra e Kvara Schelia a sinistra c'avevi sotto e due adesso vediamo meglio andiamo ancora avanti che qui Guaiesus passa a Mario Rui guarda qui si vede questa linea di centrocampo a 4 Mario Rui Kajus Lobodga Di Lorenzo qui siamo agli ultimi 10 minuti dove il Napoli tentava il tutto per tutto e guardiamo Simeone e Raspadori vicini Raspadori un po' più indietro Zerbin a destra e poi qua c'è Srebrenica che non vediamo sì esatto che non vediamo perché non preso dalla però lo puoi fare con la Sarenitana chiaramente lo puoi fare con tutte se devi recuperare o vuoi vincere una partita lo puoi fare chiaramente è chiaro che comporta dei rischi perché la Sarenitana aveva un certo Simi che non era molto veloce era bravo a difendere palle e far partire la squadra ma se incontri squadre che hanno attaccanti veloci chiaramente negli ultimi 10 minuti 5 minuti rischi però io credo che sia un'impostazione fatta nel momento in cui devi vincere la partita per forza la devi recuperare altrimenti andiamo ancora avanti credo che sia l'ultima ecco qui la fase di non possesso del Napoli e qui c'è la leggerezza di Politano arriviamo al gol della Sarenitana qui c'è un cross che arriva dall'altra parte respinta del Napoli stop del giocatore della Sarenitana guardiamo Candreva dove sta che chiede il pallone qui ci va Cagliustra sul portatore di palla il giocatore della Sarenitana passa subito a Candreva vai avanti Davide ecco il momento dello stop il controllo orientato di Candreva e qui Politano la leggerezza di Politano perché se tu ecco conosci Candreva che è un giocatore che prova a tirare dalla distanza o ti fa la giocata importante o vai convinto e sei sicuro di andare sull'anticipo o temporeggi e aspetti la giocata però sicuramente non lo fai tirare perché Candreva supera secondo me troppo facilmente Politano e Politano è troppo superficiale in questo duello vai avanti Davide ecco vedi basta un tocco per superare Politano e lo mette fuori causa vai avanti vediamo il momento del tiro controllo di destro vai avanti Davide ecco qui Politano va a vuoto si aggiusta il pallone e poi adesso non so se però mister sempre per essere Bastian contrario ma esiste la bravura dell'attaccante che supera l'uomo c'è là non è un errore di Politano anche perché Politano con Candreva ha fatto un sacco di duelli poco prima gli aveva fatto un sombrero recuperando palla e tra i due poi c'è stato anche uno scambio di cinque perché aveva fatto una bella giocata Politano poi nei due anni successivi è Candreva che salta Politano io pure io però finisco diciamo un attenuante per Politano voglio dire che Candreva è uno che sta andando sia a destra che a sinistra poteva in questo momento anche attaccare con sinistra e andare di là quindi tu dici bene Candreva cerca sempre di tirare in porta però non è detto che avrebbe fatto questa giocata qua è bravo Candreva non do torti a Politano per me è tutto il marito di Candreva questo colpo no scusami non voglio neanche io fare base però guarda Politano dove va lo manda a vuoto l'ha driblato e non puoi permetterti perché il principio il principio è o vai in anticipo e sei sicuro dell'anticipo se non sei sicuro poi sei un principio di tattica difensiva se non sei il dribling è quello è il sale del calcio fammi finire se non sei sicuro dell'anticipo temporeggi e aspetti la giocata successiva dell'avversario in questo caso secondo me è stato troppo impulsivo si fa superare troppo facilmente in una zona di campo delicata dove qui Candreva ha trovato il jolly perché ha trovato il jolly però si sa che Candreva è uno che ha queste soluzioni oppure poteva anche cambiare gioco dall'altra parte potrebbe accadere che Politano fosse rimasto passivo e farsi superare come una bella statuì invece qua Politano cerca con garra con grinta di arrivare sul pallone Candreva è più bravo glielo nasconde è bravura dell'attaccante ripetiti ripetiti l'azione oggi non riusciamo a combinarlo ripetiti l'azione in video e vedrai che Politano si fa superare troppo facilmente da un giocatore in quella posizione è pericolosissimo ditemi un'altra cosa andiamo finito se non sbaglio Gollini mette le mani al viso dopo un'azione cioè dopo questa azione no no ritorna un attimo su quell'immagine Davide forse quella prima ancora quella prima se vedete Gollini ancora torna un attimo che non vediamo ancora il portiere lui innanzitutto aspetta ecco qua ecco qua aspetta un attimo fermati un attimo volevo dire una cosa a Gregorio allora qui il giocatore del Napoli se è concentrato vedete che il pallone Candreva ce l'ha sul destro e l'unica cosa che può fare è andare sul destro anche perché lui è un destro se va dall'altra parte è un giocatore che non è pericoloso quindi lui non deve andare a coprire la parte di sinistra di Candreva ma il destro il piede forte quindi con un po' di concentrazione in più un po' di meno di leggerezza questo errore non lo fai non è per amore del cielo però guarda questa slide si temporeggia c'è stato uno scambio di posizione mi salta all'occhio che c'è stato uno scambio di posizione tra Caiusto e Politano perché in una dinamica naturale sarebbe stato doveva esserci Politano sul 3 perché da esterno tu segui il divisore che sale e Caiusto a chiudere centralmente ma se Caiusto ha fatto questo movimento perché Politano già si era accentrato è chiaro che Politano si trovi in una fase di campo non congeniale è irruente come tu dici ma purtroppo non può fare altrimenti perché poi se vedi alle spalle c'è un calciatore completamente libero che nessuno sta seguendo quindi qua con 1-2 Candreva va in porta quale invece Candreva gli fa sto movimento anche perché sa che c'è l'altro attaccante vicino e Politano è preso in mezzo io do tutti i meriti al gol fatto da Nazareth non trovo errori in quelli del Napoli anche perché poi il tiro finisce in un angolo in un'angolo in un'angolo in una sfera di sole dove tu vedi che è già passato faccio difficoltà a dare delle colpe dico la verità è il mio pensiero guardala in video vedrai che lui è troppo è superficiale Paolo dice superficialità non errore è superficialità anche il disimpegno perché allora sappiamo allora Gregò allora ci sono gli allenatori quando preparano una partita la preparano studiando gli avversari non solo il modo di giocare ma anche gli avversari singolarmente e se Politano è stato attento quando Mazzari ha spiegato le caratteristiche dei giocatori della serenità sa che Candreva il pallone su destra da quella posizione non lo deve mettere quindi il principio dice che se sei sicuro vai in maniera decisa e magari o commetti anche fallo ma non lo fai tirare da quella posizione se magari l'avversario è bravo e ti supera se non sei sicuro dell'intervento temporeggi aspetti la giocata dell'avversario per me è un errore riguardatelo in video vedrai che viene superato troppo facilmente dal giocatore della serenità e il Napoli ora attualmente questi errori non li deve commettere allora mi dite solo se Gollini poteva fare qualcosa il sole non il sole la posizione io dico che se c'era Meretto c'erano altre polemiche secondo me non poteva fare niente se c'era Meretto Gollini non l'avrebbero preso con lo stesso c'è un po' di sole lui è vero sta con le mani avanti però Candreva fa un tiro eccezionale un tiro secondo me imparabile quindi però se ci fosse stato Meretto avrei letto tantissime critiche per Gregorio cosa Gollini no può farci poco perché ti ripeto la mette veramente dell'incrocio ma poi la parabola qui la palla parte alta e scende quindi col sole io veramente faccio fatica a dare delle colpe ripeto al Napoli in questa circostanza purtroppo è anche vero che il Napoli è in quell'anno astrale in cui non ti viene bene quasi niente cioè questo è il primo tiro in porto della serenità forse il secondo ma forse il secondo perché l'altro non lo ricordo però sai che cos'è però guarda questo che cosa ti fa il Napoli finge per il 96 però poco prima abbiamo avuto delle occasioni con cui Kvara davanti alla porta ancora una volta non ti fa gol io sono d'accordo con te però se in più occasioni il Napoli prende gol sempre al primo tiro in porta un motivo ci sarà un errore un errore ci sarà certamente però una volta è colpa di uno una volta di un altro ti ripeto però qua c'è una grandissima giocata a mio avviso di un signor calciatore che è il 90% di questo è forte non trovo forse c'è un 10% perché come dici tu posso un po' superficialità però sai noi parliamo seduti a bocce ferme sono davanti ai fari questo gioca la calcia la calcia estinta è immediata è al momento cioè se ti senti di attaccare l'avversario perché pensi di poter recuperare il pallone tu non ti fai tutti questi ragionamenti ma forse questo mi salta mo' aspetto mo' tempo reggio però il calcio è è estinta no? sì sicuramente ma proprio per questo perché se sarebbe se fosse solo estinto ma l'avevo fatto allora no 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 non ci sarebbero più i match analyst tu sai bene che per fare un sombrero a un calciatore devi sfruttare anche la disattenzione dell'avversario perché va fuori tempo Candreva si era fatto fare un sombrero da politano pochi minuti prima quindi nell'occasione inversa era stato superficiale Candreva era stato bravo ma in che zona di campo? sulla sinistra ma nella tua metà campo hanno due in lato i due allora ci sta che tu ripeto in una circostanza è stato meno preciso ma non sono colpe a mio avviso a volte quando tu diventi che un avversario non lo marchi lo lasci solo in aria un cross ci sono quattro avversari e due difensori queste sono colpe il campo vuoto dove vanno nelle praterie il cernocampista che sta sempre davanti alla palla come è accaduto col Torino come è accaduto precedentemente col Frosinone tutti alti mai dietro all'ino della palla i buchi c'è la campione difesa questi sono degli errori a questi livelli poi chiaramente io rispetto la tua opinione no 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 ma sono l'opinione a questi livelli con i match analyst che ci sono i tanti video dove gli avversari ti studiano a questi livelli secondo me questo non lo reputo un errore grave ma è comunque un errore un errore conoscendo una bravura ragazzi io devo andare in pubblicità e voglio sentire i tifosi da casa che ci stanno anche scrivendo che ci hanno mandato tantissimi messaggi li ringrazio adesso apriamo le assolutamente apriamo le linee così sentiamo un po' di amici da casa cosa ne pensano su quello che stiamo dicendo ma anche sulla questione degli acquisti poi leggo qualche messaggino allora mi raccomando metteteci mi piace e poi andiamo a vedere un po' i tifosi che cosa ne pensano allora fermi lì pubblicità allora eccoci tornati dovremo essere collegati da Ariad con il collega Ivan io spero di pronunciare bene il suo cognome cardia di tutto mercato web buonasera ciao Ivan grazie ma che ore sono lì? le sette due ore avanti cioè è già sera praticamente da te ormai sono le sette quindi dove sei? sei all'esterno dello stadio? no no sono all'esterno dell'albergo che ospita il Napoli ah ok vedo che è un po' sfocato però non ti preoccupare non ti preoccupare ti ringraziamo intanto per questo collegamento che so che sei super impegnato stai seguendo tutte tutte le squadre un po' del per tutto mercato web allora Ivan quali sono le ultimissime? tu ci hai mandato le immagini della della fine dell'allenamento di questa mattina del Napoli ma fa caldo perché abbiamo saputo che c'è stato un cambio sugli orari delle conferenze eh? sì sì esatto non solo delle conferenze anche dell'allenamento del Napoli il Napoli si va a allenare di mattina e poi fare conferenza la sera invece farà la conferenza il pomeriggio diciamo alle cinque locali tre italiane e poi si allenerà alle sette locali quindi a quest'ora più o meno con il fatto col buio eh proprio per il caldo proprio quello è il tema che sollevavi tu perché stamattina si sono allenati alle undici mi sembra o insomma comunque alle dieci e mezza abbastanza presto comunque è più presto però però hanno riscontrato una temperatura molto calda effettivamente la mattina si arriva sui 27 28 gradi fa molto più caldo che in Italia poi c'è verso quest'ora in realtà si abbassa drasticamente la temperatura scende di 10 15 gradi ah quindi diventa un clima sì diventa un clima più simile a quello italiano magari ancora un pelino più caldo però comunque non così tanto caldo tra l'altro l'escursione termica a cui si giocherà sì sì beh siamo nel deserto considerate siamo in un alto piano nel deserto a 600 metri d'altezza quindi l'escursione termica si fa sentire si fa sentire senti Ivan ripeto proprio per pochissimi minuti che ti rubiamo qual è il clima tu che cosa stai vivendo lì tu stai seguendo un po' anche la Fiorentina credo com'è la situazione in questo momento a Riad hai visto insomma oggi facce distese abbiamo visto dopo le rimettiamo le immagini del rientro in hotel che clima hai visto ma poi gli allenamenti ve li stanno facendo vedere sì o no? no gli allenamenti di oggi no gli allenamenti di domani di Napoli e Fiorentina invece potremo ah beh sono come tipo Champions diciamo i 15 minuti esatto il quarto d'ora iniziale il quarto d'ora iniziale precisamente in stile in stile UEFA ho visto faccia abbastanza serene forse un po' più serene in casa Fiorentina ma è il momento leggermente diverso tra l'altro la Fiorentina oggi ha una notizia positiva perché ha ritrovato in gruppo Dodò anche se difficilmente sarà insomma titolare ci vorrà un po' di tempo un giocatore che rientra anche in tempo abbastanza breve da un infortunio a legamento crociato quindi dovrà tornare al ritmo partita però è tornato in gruppo e in casa Napoli un po' gli echi del mercato con le viste mediche di fare questo pressing per l'ingonge però è una squadra che comunque soprattutto a centrocampo ha gli uomini abbastanza contati lo sapete meglio di me il sostituto di Elmas di fatto non è ancora arrivato Zelinski ha qualche acciacco Demme è un giocatore che praticamente il Napoli non ha mai Mazzarri e il suo staff non l'hanno mai visto quindi è una squadra che in quel reparto lì ha qualche difficoltà certo da questa gara può anche tirar fuori una dose di entusiasmo che poi magari si riversa in campionato questo è un po' l'augurio che si fa in casa Napoli Certo Ivan allora domani ci sono le conferenze ma sono non saranno visibili o saranno visibili hai qualche notizia in più? Da questo punto di vista non so dirti anche perché essendo qui non non ho chiesto questo aspetto però l'anno scorso furono trasmesse in diretta sui canali youtube della Lega della Lega immagino che succederà la stessa cosa però insomma a questo punto poi chiedo ti mando anche bravo aggiornaci su questa cosa appena possibile proprio per capire proprio se anche noi potremo metterle in onda se ci sarà la possibilità di farle vedere dopo anche in un secondo momento quindi questa è una domanda che ti poniamo grazie Ivan grazie e buon lavoro a domani spero che ci possiamo collegare domani dai buon lavoro intanto buon proseguimento grazie 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 velocemente proprio per permettere al collega anche per le difficoltà anche logistiche secondo me proprio di stare poi lì a Riad non è sicuramente facile e comunque ragazzi io intanto apriamo le linee e lo chiedo a Davide vi chiedo proprio un minuto a testa questo fatto che si deve giocare lì è per me assurdo solo per i soldi non lo so cosa ne pensi di Gregorio di questa supercoppa l'ha detto Sardi prendi i soldi e scappa e scappa bravo è un altro impegno anche bello se vogliamo però io faccio fatica a vedere questi trofei anche a distanza di quelle che sono state le squadre che hanno vinto bravo esatto se fosse giocato nell'immediatezza della fine dei tornei per vedere chi dei due però oramai la partita di calcio oggi è un evento anche singolo cercano di venderlo al meglio e quindi supercoppa 4 che in Spagna già si faceva all'estero che si fa già da oltre 15-20 anni se non sbaglio iniziano i 2000 fu fatto già una cosa del genere con il Milan che andò a vincere alla prima supercoppa che ha giocato in terra straniera forse in America non ricordo vado a braccio quindi Frangeli non ci possiamo mai navigliare di questo è un trofeo lo dobbiamo onorare io penso che Napoli possa trovare solo bene dalla supercoppa in che senso che se dovesse fare un miracolo potrebbe cambiare un po' la narrazione di questa stagione che al momento sembra totalmente totalmente ripeto totalmente fallimentata perché ad oggi l'umore che c'è in piazza è quello di un fallimento totale ci sono ancora cose da fare da giocare e questo è uno di quelle miracoli che Napoli faccia la sua figura e possa vincere va bene Paolo sono d'accordo questa volta con quello che dice Gregorio è un format che non piace a nessuno peraltro perché al Napoli insomma dei Laurenti sono state polemiche per questo tipo di format la stessa cosa con la Lazio e anche con la Fiorentina forse l'unica a cui fa piacere è l'Inter però a me non piace neanche il fatto che si gioca a parte che si gioca in Arabia ma perché questo fatto della finalista della Coppa Italia che ha perso poverino ha perso però perché deve andare a giocarsi una Supercoppa italiana quando ha perso la finale oppure che è arrivato secondo deve andarsi a giocare una Supercoppa una finale di Supercoppa c'è proprio zero io per me veramente sono allucinante tant'è vero che se non sbaglio l'anno prossimo si tornerà al vecchio al vecchio veramente se non sbaglio sì no vabbè ragazzi è solo per quest'anno sì peraltro con tante partite che ci sono insomma attenzione se fosse così sarebbe drammatico attenzione tutti tutti ci siamo lamentati della Coppa d'Africa tutti perché toglie calciatori ai club assolutamente ma questi dieci giorni che tu a gennaio passi in un altro continente con un altro clima secondo te non inciterà anche sul campionale cioè il fatto che adesso dal punto di vista della classifica l'Inter avendo delle gare in meno rischierebbe da qualche paio di mesi di essere sempre seconda e non più prima cambia la narrazione della stagione e poi l'avete visto quando non bisogna fare una partita di recupero è già caduto non è scontata l'Inter è persa la Bologna e ha perso lo Scudelli quindi facendo una Supercoppe con queste modalità tu danneggi il campionato che è probabilmente l'evento più importante per il calcio diciamo per il movimento nazionale cioè il campionato e mi sembra che questo campionato viene dopo qualsiasi altra cosa perché ecco l'hai venduto in toto il pacchetto e ormai te ne freghi ora l'hai venduto ora devi vendere altro e te ne puoi fregare allora aggiunge 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 e ste perde di qualità a mio avviso vabbè allora apriamo le linee abbiamo detto c'è già una telefonata credo pronto ciao Francesco buonasera Manuel ciao Manuel buonasera a te vai buonasera oggi mi schierò nel partito di Gregorio non avevo dubbi non avevo dubbi contro lui e parto però saluto anche Paolo ciao Manuel qualcosa concordo con Paolo infatti parto parto dall'ultimo argomento che avete detto della Supercoppa ma tutto questo che sta succedendo Supercoppa andare lì prendi i soldi e scappa il nostro presidente lo aveva previsto anni fa chiamando poveretti e pezzenti quelli colletti del calcio italiano o no quando si dovevano vendere i diritti di V che venne Ronaldo e disse voi siete poveri pensate a incassare 20 invece di incassare 60 milioni di euro per esempio avendo nel nostro campionato uno dei due attualmente giocatori più forti d'Europa allora siamo sempre là noi ci facciamo le domande ma se il calcio italiano è malato è come se tu dino un male capo il tuo momento è non perfetto allora lo fai pensate a pigliata chi veniva poi non fai fretta allora pigli e passano un po' brufa il calcio italiano è così stai facendo una pubblicità a tutte le casse una scherza tutti li conosciamo no no hai fatto bene perché tanto no no hai fatto bene andiamo avanti andiamo avanti però per dire vedi su questo esempio sono d'accordo con con Paolo anche qui il format è sbagliato perché giustamente io sono il Napoli ho vinto lo Scudetto e la Supercoppa perché si chiama Supercoppa chi vince la Coppa Italia è lo Scudetto è così io Napoli devo addirittura compromettere la vittoria di un titolo che mi spetta di diritto perché conquistato con la vittoria lo Scudetto perché grazie a regolamento che tu hai elengato ieri ho la paura che se mi vengono ammoniti dei giocatori in semifinale perché c'è una partita in più non mi posso giocare alla pari un trofeo che io merito di giocare in quanto vincitore più un altro che mi permette scusate il termine è chiaro il ragionamento abbiamo veramente ragione ma anche l'Inter anche l'Inter che ha vinto la poppetaia potrebbe rischiare di è trasversale però il format è il potuto sbagliare di Gregorio però l'Inter non c'ha i diffidati e gli infortunati come ce l'è il Napoli hai capito? ma è sbagliato il format noi ti stiamo dando ragione Manuel ha detto Paolo io sono d'accordo con te è una supercoppa va giocata tra le vincitrici Manuel però attenzione che i diffidati del campionato in supercoppa non valgono si azzera tutto no ma lo so ma lo valgono ci sto dicendo valgono nella coppa cioè io posso beccarmi un russo e non giocare la finale magari con gli ammoniti che hai avuto in semifinale non giocherai al massimo la finale anche l'Inter è la stessa cosa è uguale quindi non è che è una condizione di sfavore solo nostra comunque tornavo volevo sì ho capito si Paolo ho d'accordissimo volevo tornare quindi sul partito di Gregorio perché prima parlavate di acquisti no e Francesco non era d'accordo su questi acquisti che il Napoli aveva fatto perché per te Francesco ci volevano giocatori già pronti tipo i vari copminers no ma pronti no nei ruoli nei ruoli non pronti ragazzi scusate il termine pronti potrebbe essere sbagliato giusti volevi dire giusti giusti cioè nei ruoli che servono difensori però mi collego a quello che dici tu purtroppo purtroppo il mercato è fatto di opportunità Francesco tu lo sei meglio di me se tu oggi hai la possibilità di prendere Traoré che può essere magari un magazziniere il tuo Napoli e a poco perché è successa una combinazione che te la puoi prendere tu te la vai a prendere questo lo dicono tutti i grandi direttori sportivi ricordati sempre ti ricordi perché tu hai un po' i capelli bianchi io però me lo ricordo ricordati inzaghi Pippo doveva venire a Napoli maledetta fu quella partita di Coppa tra 7 e 4 4 gol allora che noi sappiamo se Traoré ha fatto magari domani una partita e il Bornemouth non l'avrebbe venduto più allora tu oggi te lo vai a prendere che poi dobbiamo vedere gli altri ruoli questo sì però infatti sono d'accordo perché tu stai dicendo al momento ci mancano di stasso sono d'accordo con Gregorio con il mercato che si fa o se non tutti i giocatori gli allenatori il Presidente avessi stato accattato 40 giocatori ma non compra quello scordi ricordo quello compra quell'altro d'accordo d'accordo ma non vorrei andare contro a te Francesco ma no ma si chiude contro perché non stai parlando di Caglius che il vice a chissà ma che chissà ti viene Caglius il problema è che non devi fare Caglius avere un altro discorso che sei non sei no ma banca numericamente però numericamente non è solo la mancanza di Caglius numericamente c'è Demme che è per lui è un centrocampista più diciamo di rottura no che diciamo di qualità quindi numericamente hai quello secondo me per questo non ci è intervenuto il problema è sostituire è sostituire Elmas che è statunale di Leggeliski che è in questa condizione e c'è il Traoré scusate però il problema Manuel è che qui ci devi dare per forza ragione che Traoré non gioca da quattro mesi ah bravo esatto fisicamente allora io l'ho detto l'ho premesso è un giocatore che a me piaceva ai tempi del Sassuolo fortissimo e ci avrei già puntato all'epoca spendendo anche i 30 minuti che si alza fuori viene all'Indstrom perché mettiamo a destra scusa no ma stiamo parlando di centrocampo stiamo parlando di centrocampo di centrocampo ma non puoi giocare al centrocampo anche Lindstrom ragà perché fra poco ci mettiamo raspatori al centrocampo no 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 però facciamo un attimo chiarezza Elmas non è mai entrato su Anghissà Elmas è entrato sempre su no no ma infatti ma infatti io non sto parlando no allora io ho detto che come sostituti di Anghissà hai Cajus e Demme che hanno le caratteristiche non chiaramente uguali tecnica a quelle di Anghissà perché Anghissà è un altro livello ma hanno quelle caratteristiche di rottura che serve a un centrocampo mentre invece la qualità tu ce la mettevi con Elmas o Zelis ora non c'hai Elmas e c'hai Traore ma poi c'hai Zelis che è a mezzo servizio sperando che faccia il professionista come io lo so che lo farà però intanto con la Salernitana non ha giocato e quindi non c'avevi giocatore si è fatto male Cajuste ragazzi ricordatevi con la Lazio Cajuste è squalificato quindi Napoli con la Lazio se rimane come siamo anche io parlo del centrocampo sempre il Napoli in questo momento avrebbe soltanto Lobotka e Demme basta si perché Cajuste è stato comunque Cajuste è squalificato quindi non gioca con la Lazio non mi dite che giochiamo contro Auree Demme e Lobotka perché secondo me Tano non ce l'ha però sai Francesco non puoi tu comprare un altro calciatore perché poi ti manca uno che è squalificato bravissimo è capito di 50 allora hai Demme quella partita giochi con Demme sentiamo un attimo Manuel che lo salutiamo perché poi dopo andiamo avanti no poi ero d'accordo con Paolo però poi vengo vengo e concludo al fatto che non sono d'accordo con Paolo su certi argomenti che ha detto prima nel senso che nel senso che tu hai parlato di Cajuste che è un giocatore prima hai detto però viene dal Renne non è che possiamo dire che il Renne è una squadra che nel campionato italiano e ora tu sei l'esempio Pinkvara scommetto perfetto però però ascoltami no però ti faccio vari esempi Dinamo Teblisi Cenk Sant'Etienne Goulam scusami però questi giocatori possono tenuti però aspetta aspetta ok ti rispondo subito perché infatti io sono stato credo di essere stato chiaro poi allora lo ripeto io ho detto che Cajuste è un ottimo prospetto come lo è anche Nathan si parlava di giocatori pronti se ti ricordi Coulibaly il primo anno ha fatto parecchia panchina è il secondo anno che è esploso è il secondo anno che è esploso con Sardi Goulam la stessa cosa Giorginio la stessa cosa non erano pronti in quel momento l'anno successivo lo sono stati ma in questo momento ho dato la ragione a Gregorio anche a te l'hai detto prima e anche a Francesco cioè difficilmente si poteva migliorare no io dici non è vero non è vero ma noi parliamo a cose fatte io vi faccio un esempio in questo momento comanda il campionato italiano una squadra in cui i nuovi acquisti non hanno apportato nulla se l'Inter è prima in classifica è perché la stessa rosa dagli ultimi due anni fammi finire sta facendo quelle che doveva fare già pure l'anno scorso e quelle che ha fatto due anni fa facendosi fregare dal Milan i Pavard pagate 30 milioni i Frattesi gli Arnautovic ma io cito sono gente che ad oggi Turamma e Somers voglio arrivare sono gente che ad oggi non hanno apportato nulla perché sono panchinari fatemi parlare quindi il Napoli ha cambiato i panchinari come li ha cambiato l'Inter con questa differenza l'Inter ha cambiato un grande portiere anzi due perché anche Andanovic con uno che aveva 35 anni non mi direi che Anano è un grande portiere perché me ne vanno no scusa ma se avendo Orano a 50 e prenda Stormer a 5 credo che il grande portiere è quello di 50 e quello di 50 quest'anno sembra un ex calciatore ecco bravo ma chi lo può sapere come chi? in Manchester United ma come fai ad Agosta a pensare a questo? come l'Inter ha cambiato un solo titolare che era l'attaccante il Napoli ci ha azzeccato ci ha azzeccato il Napoli lo ha sbagliato un solo titolare scusa perché volevo anche finire di rispondere senti la risposta grazie Manuel perché noi se no lo facciamo tutte le volate io parlavo di una squadra che aveva vinto lo scudetto e che doveva essere integrata con calciatori con calciatori di primo livello pronti e più competitivi di primo livello quindi ripeto che Cagliusta e Nathan saranno ottimi prospetti per l'anno prossimo forse ci faranno vedere qualcosa in più ma quest'anno no finisco aspetta Manuel grazie grazie non posso andare avanti l'Inter l'Inter ha preso Pavard che faceva il titolare a Bayern de Monaco esatto ha preso Sommer che non gioca Pavard è stato infortunato è stato infortunato poi ha preso Frattesi a me piaceva tantissimo che giocherebbe titolare a Napoli tranquillamente questo però ogni volta che entra segna esatto bravo poi è Turam che sta aiutando tantissimo molto più funzionale di Zevo Turam me lo aspettavo però Turam me lo aspettavo io no tant'è vero che l'ho consigliato anche a mio figlio per il fantacalcio ok bravo quindi poi Sommer che è un signor portiere portiere che voleva voleva riscattarsi ha fatto il secondo di Neuer questo è stato un errore Gregorio tu dovevi andare a prendere giocatori pronti poi ha preso Quadrato 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 non voglio pensare questo quando ti entra di fare la differenza Quadrato no comunque allora in difesa Gregorio dovevi andare a prendere un difensore che teneva fame come l'hai fatto con Kim non puoi andare a prendere un ragazzotto che viene dal Brasile non lo puoi fare sei la squadra campione d'Italia Gregorio insieme a un titolare ma io vi ho detto dal principio che è l'unico acquisto sbagliato da Napoli nel ruolo è il difensore centrale che ha cambiato tutta tutta la geometria e l'equilibrio della squadra perché Kim valeva Osimène e Kvara io ti ho sempre detto e non era facile trovare però sugli altri mettetevi state scettando la croce sugli altri che non stanno facendo nulla come non lo stanno facendo quelli dell'Inter prima in classifica eccetto uno perché somme 35 anni è stato criticato da tutti perché tu togliela poi ti viene bene il calcio noi stiamo parlando perché andava è andato tutto male però io mi cioè la mia linea è che io non butto tutto quello no ma io dico una cosa io credo che il calcio deve ritrovare prima in se stesse le forze gli altri devono dare una mano ma non ha bisogno di stavolgiare secondo te vale frattesi rispondimi questo anno no questo anno no allora basta questo stiamo dicendo ma ne frattesi ne cajust hanno inciso sulle classifiche delle nuove frattesi ha inciso hai inciso turam e ha inciso vatti a vedere vatti a vedere vatti a vedere vatti a vedere i frattesi è uno dei centrocampisti che il rapporto tempo giocato e gol fatto il migliore in Europa addirittura in Europa ma ti faccio un altro ma tu avevi elmas non ha mai invidiato a frattesi ragazzi vi voglio bene oggi sembra tutt'oro quello degli altri no no il Napoli c'era su frattesi che cosa ti ha portato rispondimi il Napoli c'era su frattesi 25 milioni io ve l'ho detto già due tre volte io mi sto rimpiaggendo Lozano dove è Lozano ma lozano è lo si ho cacciato ma è da l'imbiaggia da prescindere ma peraltro su frattesi c'è stato forte anche il Napoli poi il giocatore ha scelto la giocatore ha scelto l'Inter ma un signor il giocatore che anche il nazionale ha fatto benissimo è uno che può fare titolare poi voglio dire poi voglio dire il centrocampo del Milano Cialanoglu Barella e Mitigariani voglio dire i stessi dell'anno scorso i stessi dell'anno scorso ma è difficile togliere il posto ma in due di quest'anno sembrano brocchi ma fino a luglio tu non avresti fatto i cambiamenti sui dei tre con i tre te lo dico io è facile dire oggi a gennaio ah ma quello ah ma quest'altro ma le scette si fanno prima non dopo aspetta Gregorio però se tu hai un centrocampista che sai che deve partire che si chiama anche chissà mentre l'Inter non c'ha nessuno che deve partire non prendi il primo che passa perché Caglius è il primo che passa per me Caglius è il primo che passa faccia fatica no 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 dai Gregorio ma dimmi io avrei preso frattesi allora ti hai ragione hai di cose che dico che il Napoli sta improvvisando tu dici che il Napoli sta improvvisando io non ci dico faccio fatica di quest'estate per me ha improvvisato il Napoli ha improvvisato perché non aveva un direttore sportivo perché l'allenatore altro personaggio che ci ha un guaiato poi sei stato su Vega sei stato su Vega l'hai preso l'hai preso quello era un gran giocatore poi se ne vado non prendi nessuno 30 milioni però hai fatto passare tre settimane il milioncino 27 28 poi non prendi nessuno hai preso Lindstrom che non è Gabri Vega assolutamente non è Gabri Vega e c'è stato venduto Gregorio a noi Lindstrom c'è stato venduto al posto di Lozano quello ci hanno detto a noi perciò ti continuo a dire che il Napoli ha improvvisato perché il signor Lindstrom c'è stato venduto e le cronache dei giornali le possiamo andare a riprendere c'è stato venduto come il sostituto di Irving Lozano un laterale di fascia che faceva staffetta nell'anno dello scudetto non nell'anno del terzo posto nell'anno dello scudetto con il signor Politano che insieme a Zelischi e proprio con lui è stato il migliore Zelischi e Politano della prima fase di questo povero Napoli no Politano è ancora pure oggi è ancora pure oggi allora non mi venite a dire che Lindstrom è stato Lindstrom è stato preso perché come ti ho detto prima tu scendi per andarti a comprare la camicia vedi un pantalone in offerta dici aspetta fammi pigliare mi posso fare una domanda Raspadori come è stato preso come pantalone uguale uguale la stessa cosa non improvvisato sono arrivati a prendere perché Siment doveva andare via ma poi non aveva mai giocato c'è davanti lui è pigliato Raspadori ve lo Siment anche qui quindi seguendo il tuo concetto è tutto improvvisato Raspadori è stato preso aspetta Raspadori è stato preso perché inizialmente Spalletti voleva fare 4-2-3-1 esatto bravissimo poi ha iniziato col 4-3-3 adesso non ricordo perché c'aveva qualcuno infortunato poi chiaramente quel sistema di gioco ha dato risultati positivi non l'ha cambiato più e il Napoli si è trovato con tre punte con Raspadori io credo che il Napoli abbia preso Raspadori perché Raspadori è forte sì Raspadori può giocare più ruoli poi che faccia bene o faccia male lo dice il campo lo stesso concetto è stato fatto per Lindstrom anche se è stato preso da sostituto di Lozano l'ha preso pensando che sia un calciatore eclettico che adesso stia facendo male è nella media anche dei campionissimi del Napoli perché oggi Zierischi sulla carta non sembra valere Lindstrom ma non è così Zierischi è un campione e Lindstrom deve nascere bravo io faccio fatica a accettare i ragionamenti di oggi perché oggi sembra che il Napoli sia ha sconsiderato sufficiente non sa più fare programmazione non sa fare più mercato non c'è un dirigente valido il Presidente vuole solo fare soldi i calciatori sono tutti con la valigia in mano gli allenatori sono ex allenatori c'è ragazzi ma anche Tommaso ha cambiato la marca di caffè ve lo dico io è quello che si è sputato dentro è un anno maledetto io voglio salvare il salvabile credo che il Napoli di quest'anno abbia ancora grandissimi valori tecnici tattici gente di assoluto livello che va ritrovata e vanno colmati degli errori fatti in sedi di mercato che avete detto è bellissimo ma il Napoli non voleva da quei calciatori ti torno a ripetere il sostituto del titolare solo in un ruolo lo ha cercato e lo ha sbagliato perché ha pensato al prospetto l'altro doveva prendere l'immediato ed era il difensore c'è andato che poi non ti veniva bene va bene però dovevi andare su Scalvini su Buongiorno già da luglio quello è l'errore sono d'accordo su quell'errore ma io oggi penso però non puoi sapere che Buongiorno fai un grande campionato buongiorno ti fa peggio di figlia però Buongiorno si sapeva che era un buon giocatore però lo sai il Torino è impossibile da trattare quello è un altro discorso è un presidente che casomai lo vende domani mattina al Milan perché c'è tutto un altro discorso interno però le normanne ci sono le normanne che è un titolare della nazionale spagnola che gioca nella reale società di una squadra che fa il calcio simile a quello che stanno affondando anche lui simile a quello che faceva anche lui perché non è solo una questione ma io non so d'accordo finanno è affondato per tutto per il clima tu intanto prendilo tu intanto prendilo e questo è il concetto su Trone allora ragazzi io devo andare in pubblicità poi vediamo di fare un'altra telefonata scusateci ragazzi ma oggi oggi siamo tutti quanti belli carichi che ci tiene Gregorio Gregorio oggi sta scatenato ma io non ve lo vedevi questo perché troppo tranquillo prima della tempesta fermi pubblicità fermi pubblicità ragazzi questo è la pubblicità non è la diretta è la pubblicità noi dipendiamo le cose allora siamo ritornati un attimo su Kim io vi voglio spiegare una cosa su Kim io ve lo prendo sempre quando lo vendemmo Kim era peggio di Cajuste i tre pacchetti come arrivò Kim ma anche nel Ren giocava giocava nella Prozuzuz Gregorio calma di un attimo calma di un attimo allora Kim perché noi parliamo a cose fatte e poi vogliamo fare gli scienziati tutti io penso che tutto quello che è stato fatto di sbagliato è lambante io penso che oggi stia raddrizzando la mano non riusciamo a fare un'altra telefonata voi dite no un attimo tu e poi andiamo al telefono Gregorio allora ti diceva tre pacchetti Kim scusami Francesco perché l'hai detto anche tu però non si è andato a vedere il calciatore perché io quando ho visto i video di questo calciatore ho detto subito ci sono anche dei posti su Facebook che questo era un grande acquisto tant'è vero che si video si video e secondo no io Vargas anche l'Indus su Vargas avevo detto Vargas personalmente avevo tantissimi dubbi comunque tant'è vero che i suoi procuratori hanno preteso la clausola sia con il Fenerbace perché sapevano che era un calciatore che doveva esplodere e con il Napoli quindi ci avevano visto già lungo ma c'è sono cose sono cose diverse concludo tu l'hai visto il calcio no l'errore che ha fatto il Napoli quest'anno è stato quello di credere che questa squadra che poi è composta da uomini che possono sbagliare bravo l'errore fatto dal Napoli è quello di fidarsi troppo di questi calciatori perché dopo uno scudetto vinto quando non si è abituati a vincere incosciamente ci si rilassa e quindi ci volevano acquisti più competitivi per evitare che i titolarissimi almeno 3-4 si potessero rilassare poi Gregorio ti faccio l'esempio ancora una volta in questa situazione non di Kim ma in generale il Napoli è una società che guarda soprattutto ai giovani e spesso e volentieri ha lavorato sulle plusvalenze di questi giocatori vedi Cavani vedi Guain vedi il Pociolavezzi tutti e questo purtroppo è rimasto in un anno dove tu sei campione d'Italia non sei più la squadra che si è qualificata in Champions nelle idee del Presidente che aveva perso inoltre il suo allenatore campione d'Italia e il direttore sportivo che fino a tre anni fa non aveva neanche potere di parola però in tre anni si è costruito insieme al suo staff Pompilio e insieme ai scouting Micheli e Mantovani si è costruito una rete di contatti che andava oltre vi dico di più vi dico di più Lindstrom era un'idea di Giuntoli ma io credo che l'idea di Lindstrom di Giuntoli non era per prenderlo al posto di Lozzano dove lì non si è capito poi chi è intervenuto in questa cosa ma era per andarlo a prendere in un futuro Zelischi proprio perché ricordiamoci che Zelischi non sta firmando anche ora ragazzi il Napoli aveva preso Gabri Vega Gabri Vega il caro presidente dell'Aurentis non l'è riuscito a prendere questo non lo sappiamo il motivo quindi che cosa si fa si va subito al piano B Lindstrom ma sia Garzia che Mazzarri forse aggiungo io non sono riusciti a sistemare Lindstrom poi domani mattina viene Paolo Serra e mette Lindstrom in mezzo al campo a fare il trequartista e Lindstrom diventa il nuovo Gianfranco Zola va bene ok vi ho fatto degli esempi sempre come dire pirotecnici il problema te lo ripeto con la questione difensore e con la questione centrocampista si è voluto vivere sugli allori cioè si è voluto andare a prendere quello che si sperava diciamocelo e perché anche altri colleghi l'hanno detto non lo diciamo solo noi che Nathan era la quinta scelta del Napoli c'era Danzo c'era Lenormand c'erano altri c'erano giocatori che dovevano essere pronti invece non sono stati presi questo è il discorso sul difensore centrale sono ovviamente d'accordo e questo è il ragionamento sugli altri ruoli diffido un po' perché Napoli stava sostituendo il Napoli prende Cajuste prende Cajuste per numericamente sostituire addirittura Cajuste e il nostro Francesco Rabbeno Aura Buona lo disse per primo disse attenzione guardate che Cajuste può giocare anche al posto di Lobotka tanto che si sperava di cedere Demme tenere Cajuste in doppio con o Angissà o Lobotka e prendere Gabri Vega poi Gabri Vega non è stato preso e Napoli è rimasto covruocola come si dice a Napola questo è il discorso mi segui questo è il problema che noi le cose le dobbiamo dire perché se no qua facciamo sempre tutto bello madama la Marchesa e questo è il Napoli è no no anzi ottavo per fortuna questo è il discorso soprattutto per fallimento dei titolari penso che non riusciamo a fare un'altra telefonata il mercato non ha dato una mano ai titolari ma soprattutto è mancato il progetto poi è mancato tutto Gregorio Gregorio ci vuole anche la fortuna l'anno scorso l'abbiamo detto quante volte l'anno scorso Simen si girava di là il pallone entrava nel set dall'altro lato Di Lorenzo tirava di sinistra e la metteva nel set quest'anno se mi potesse tornare il cacciatore io ho fatto un esempio dove il Manchester City vincitrice di un triplete si è andato a rinforzare in difesa prendendo 90 milioni non puoi guardare il sito il Napoli 600 milioni ci fa 4 campagne acquisti non le compra oggi sono infelice è chiaro che tu non puoi spendere 90 milioni ma 30 milioni per le Normandie puoi spendere il benchmark del Napoli sono il Borussia Dortmund sono club che vengono subordinati ai grandi top club della nazione e vanno a prendere ragazzi che poi vuoi far passare un messaggio diverso da quello che voglio dire è chiaro che il Napoli tu mi dici vanno a prendere 90 milioni di difensore di 16 anni per farti capire che anche le squadre più forti si vanno a migliorare ma è chiaro che il Napoli non può prendere un profilo di 100 milioni di euro però le Normand 35 però te lo puoi prendere allora io ti ho detto di sì sul difensore centrale ragazzi non ci torniamo ma anche ma anche tra l'altro non era un titolare qualsiasi era stato il migliore di tutta la difesa quindi ti vede ma anche il centrocampo voglio dire non puoi andare a sostituire anche se con Caius ma chiunque fosse stato loggibilante sapendo il disastro che è accaduto avresti fatto tutt'altro sono d'accordo con te ma questo disastro non era annunciato il buon Francesco Rabona che io saluto e io lo ricordo tra le prime puntate a settembre dicevi il Napoli doveva cambiare i calciatori dice ma tu sei pazzo cioè noi siamo campionati d'Italia e come ti presenti se tu ti vendi a Clavaschela lui dice per me il Napoli deve vendere a Ziericchia a Osimena a Clavaschela ma lo diceva a settembre tu sei pazzo tu sei pazzo tu sei direttore sportivo io faccio l'opinionista il giornalista ma io lo sto dicendo pure da settembre secondo me Natan e Caius non lo devi nominare te lo torno a ripetere Caius venne a posto di Don Belè che non ti ha portato nulla mi devi dire Natan non era subito buono d'accordo e infatti lo l'ha messo in gambo la dovuto mettere quando voglio dire scusami se Caciussi dai lo stesso dell'anno scorso pensarebbe Caius che poi ti Don Belè che non hai portato nulla io mi scuso con gli amici da casa ragazzi ci vediamo domani con un anno in più ci vediamo domani con gli amici da casa perdonate per me Don Belè e Caius sono due pianeti con mentalità per me la narrazione è diventata tossica io ho visto i pianistei dopo Napoli salernitani io mi vergogno perché vince con la serenità anche se l'ultima classificata oggi è quasi un milagro il Napoli l'ha fatto e sembra che abbiamo perso ma è l'ultima ma è il 96 ma questo e ma quello e Cavana ha sbagliato un altro conto davanti alla porta come con la Juve la narrazione è diventata tossica mi sembra che tutto ciò che oggi faccia arriva con Napoli sia mediocrità disattenzione superficialità il presidente che non ci sta è tutto sbagliato è tutto sbagliato il film di Lino Banca è tutto sbagliato è tutto sbagliato non è così ragazzi io faccio fatica tu sei contento non sono contento tu sei cazzato l'anno scorso ha dominato ora è nona a 20 punti dalla prima ma ti sembra uno contento? ti sembra uno contento? allora ti faccio una domanda ti piace il Napoli come sta giocando? no e allora qui che fallimento che ha fatto il Napoli ha fallito il progetto tecnico tattico la partita con la serenità l'hai vinta per caso non l'hai vinta vabbè comunque ragazzi non sono d'accordo la potevi vincere prima se il quale fa gol ti hai fatto gol al 96 l'hai fatto con Chievo tanti anni fa tu hai apprezzato se Fazio non fa quella sciocchezza Fissimeone tu non fai manco uno a uno allora fare noi a Torino non abbiamo tirato in porto la serenità non aveva messo in difficoltà la Juve precedentemente il Milan ancora prima quindi squadre che sono più forti di noi oggi è venuto a Napoli a Napoli giocano la partita della vita noi l'abbiamo giocato due volte la partita della vita non ha quasi mai tirato in porto un tiro ha fatto gol il Napoli ha creato molto più di quelle che aveva fatto precedentemente a Torino nella partita lascia stare Torino che il Napoli non ha giocato quindi per me ho letto questo ho letto un segnale di risveglio di un malato di un moribonde che si chiama Napoli la volontà dei ragazzi di voler uscire fuori da questa situazione mettendoci di più di quelle che hanno messo fino ad oggi soprattutto chi non ha mai giocato come Demme e Zerbini ho visto oggi Demme e Zerbini avrebbero dovuto fare una prestazione mediocre date gli spazi quindi a te il Napoli è piaciuto anche con la Roma con il Monza allora se io devo pensare al Napoli e allo Scudetto non mi piace nulla ma io ho preso atto di quelle che è avvenuta adesso io vedo un malato che sta cercando di scendere dal letto e io non gli do in testa perché i piccoli passi che fa secondo me sono pochi li sta facendo io aspetto sono sicuro che mi rimettere i piedi a terra e tornerà più forte di prima deve passare questa Dembest perché questa Dembest è stata come un huracano ha distrutto tutto ha buttato tutto all'aria ma non è tutto da buttare vi ripeto non sono tutti scarsi tutti i calciatori del Napoli dell'anno scorso ci sono eccetto uno determinante io faccio fatica a pensare che il Napoli ha bisogno di chi sa chi per arrivare quarto deve ritrovare se stesso deve ritrovare se stesso però Gregorio sei d'accordo? ragazzi con questa tipologia di gioco fai difficoltà da arrivare quarto allora devi cambiare l'altro attuale natura ma infatti no ma non lo cambiano ora non è detto perché non è detto ancora non lo cambiano non lo cambiano non è detto no 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 toglitelo toglitelo dalla mente non lo cambia per un motivo molto semplice oggi sono stato bastiano andato con voi no 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 ma hai fatto bene allora Gregorio mi dice la sua importante sono solo le mie idee io non sono nessuno Gregorio io te lo ribadisco io te lo ribadisco tu hai ragione nel giustamente sistemare le cose però fondamentalmente noi dobbiamo anche dire che in questo momento questo Napoli ci ha deluso perché ci ha deluso altamente un Napoli che controlla la Serenitana è vero che ha fatto soffrire ma ogni partita ha una storia sì ma non posso vedere una squadra che in 45 minuti non fa un tiro in porta questo è caduto con il Torino no anche con la Serenitana perché dimmi quale tira ha fatto in porta il Napoli con la Serenitana uno forse uno in 45 quello è il secondo Tembra ma tu parli del primo tempo ha parlato del primo tempo come anche col Monza non hai mai tirato in porta non hai tirato in porta con la Roma non hai tirato in porta con il Monza la partita l'hai vinta perché quel risifazio non fa quella sciocchezza e il Napoli non fa 1-1 alla fine del primo tempo è difficile che la vinci forse la pareggi ma tu potevi anche quindi neanche con la Serenitana ma io ho visto un netto miglioramento del Napoli rispetto a Torino perché qua stiamo vivendo rispetto a Torino se ci mettiamo tutti e tre in mezzo al campo facciamo meglio di loro non è nascondato non è nascondato non è nascondato non è nascondato ma come la Serenitana poteva fare il legge di Torino cioè tu metti per la partita i difensi non è peggio se tu non hai la reazione a Bupica Andreva è peggio allora ci rivediamo la prossima settimana perché con voi così vediamo soprattutto che cosa avevo fatto in Supercoppa e capiremo molte cose di più però insomma queste poi sono le situazioni che speriamo ci portano così eh sì portiamo anche i guantoni dai portiamo anche i guantoni bravo bravo Davide allora grazie a Gregorio Morrone grazie a te che fa come dire tanta puntata come si suol dire grazie a Paolo con la sua slide e il suo lavoro tecnico anche grazie a Davide in regia ora c'è tutto mercato poi no non ti preoccupare tutto mercato poi dopo c'è Dillo Adalvino noi ci vediamo domani altra puntata che ci avvicina velocemente alla Supercoppa e poi giovedì vi ho avvisato faremo lungo prepartita e poi post partita ciao grazie forza Napoli grazie a te